Buon sabato sera a tutti, oggi è il 16 novembre ed è un giorno per me sempre speciale perché sarebbe il compleanno della mia mamma, oggi avrebbe compiuto 98 anni, ma no, voi sapete che io finisco sempre la puntata dicendo fate bei sogni, stasera lo dico, dato che voglio dedicare la puntata lo dico subito e questa sera i sogni li facciamo subito, li facciamo con Roberto Vecchioni, Walter Vertroni, Serena Dandini, Giordano Bruno Guerri, Levante e Alessandra Sardoni, Giovanna Botteri, Jacopo Veneziani, Saavedo Raimondo e Daniel Pennac, insomma facciamo bei sogni e facciamoli insieme perché insieme valgono di più, in altre parole stiamo arrivando. Questa settimana è stata presentata la nuova autoblindo in dotazione alla polizia penitenziaria e il sottosegretario meloniano alla giustizia Andrea Del Mastro ne ha parlato così. Per sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sottoscritto, è sicuramente per il sottoscritto una intima gioia. Ecco, ognuno gioisce come crede, ci mancherebbe. Anche se in un paese dove dall'inizio dell'anno si sono già suicidati 80 carcerati, l'ultimo l'altro giorno a Genova, prima della gioia un sottosegretario alla giustizia forse dovrebbe provare altri sentimenti, per esempio la vergogna per lo stato in cui versano le nostre prigioni. I forcaioli hanno questa caratteristica, quando un reato riguarda loro o i loro amici diventano immediatamente garantisti. Ma non è certamente il caso del sottosegretario del Mastro. Lui è talmente coerente che ne sono sicuro saprebbe essere forcaiolo anche nei confronti di se stesso, perché come forse saprete si ritrova rinviato a giudizio con l'accusa di avere passato informazioni riservate allo scopo di dannoggiare degli avversari politici. Ma sono certo che alla fine risulterà innocente, ma nella malaugurata ipotesi in cui venisse fatto salire lui dietro quel vetro oscurato, sono sicuro che lui ne proverebbe un'intima gioia e saperlo mi riempie il cuore di gioia. In altre parole Roberto Vecchioni. Ciao Roberto. Oggi in versione milanese. Ciao. Allora che effetto ti fa questa storia? Ma queste persone qui che probabilmente non ha più altri modi di godere nella vita e sai cosa intendo. Come sempre la tocca piano Roberto diciamo. Allora ti perdono solo perché oggi sei vestito da canarino. Yellow submarine. Senti. Allora cominciamo da Padova. A Padova gli studenti del liceo dove aveva studiato Giulia Cecchettin volevano commemorare l'anniversario del femminicidio con un minuto di rumore. Ti ricordi lo slogan lanciato dalla sorella di Giulia? Certo. Certo. Ebbene il presidente del liceo si è opposto e ha invitato i ragazzi invece a fare un minuto di silenzio per interiorizzare l'evento. Ecco. Tu cosa ne pensi? No penso che un minuto di rumore sarebbe. Dopo ti farò una proposta. Comunque vediamo cos'è il rumore. Vediamo cos'è il silenzio. Perché sono due espressioni completamente diverse dell'essere umano. Una va dal dentro al fuori e l'altra dal fuori al dentro. Tra l'altro il rumore è inventato il rock. Il silenzio è lo slow. Quindi siamo già in due posizioni completamente opposte. Vai a segnare alla lavagna. Vai un po' alla lavagna che non stai facendo niente. Ecco perché c'è questo rito nella versione milanese di Roberto che alla lavagna tocca andare a me. Vabbè. Torniamo al liceo. Dai. Anche le elementari. Adesso ti faccio divertire perché è proprio bello. Sia il rumore che il silenzio hanno origini neolitiche. Ed è bello il passaggio. Scrivi RU con l'asterisco. L'asterisco prima della R, vero? Sì. Mai imparato. Sì. Ovviamente dopo la R non c'entra proprio niente. È una probabile è probabile l'inizio in europeo della parola rumore. Ma è molto facile da proseguire. Perché sotto scrivici RUT RU TH Senza? Con l'asterisco? No. Asterisco. No. Questo è il corpo di una parola greca. Metti TH. E sotto RUG. RUG. Adesso vedi che queste sono due. Con l'H? Anche senza. Basta che sia dura. Ah, due. Vabbè. Sono due espressioni neolitiche che sono passate a noi. Quello è già greco. Cos'è il RUG? Il RUGITO. Ah beh, certo. RUG. Cos'è il RUT? No. L'eruttare. Il butta fuori. Non volevo dire perché pensavo di dire una scemenza. No, è proprio così. Sono due rumori fortissimi. Infatti da allora la parola che in sé di per sé significava semplicemente botto rumore diventa quello che noi intendiamo in latino. Rumor, se vuoi scriverlo, ormai il rumore è vicino a noi. sappiamo che è così. Il rumore è vita. Guarda, è vita. È espressione. È dinamismo. È estroflessione. È voglia di vivere. È lotta. È combattimento. È una cosa meravigliosa. Il silenzio è l'opposto. Tu adesso guarda che cosa non ti ha combinato alla storia della parola per arrivare al silenzio. Vai. Allora, scrivi sì, SI. SI con l'asterisco, asterisco. Ecco. Oh, beh, in indo-europeo, sì, significa chiudere. E cosa significa questo? Ha a che fare con silenzio. Che ti chiudi? Ha a che fare con silenzio, sì. Adesso vediamo lentamente, non tanto lentamente, ma lo vediamo. Allora, tu pensa ai cacciatori primitivi. Come? Che scorgevano, i cacciatori del neolitico. Sì, non li conosco, non li frequentavo, no? Ai tempi. Ma tu pensi, immaginali. Tu sai che, non lo so, sì, immagino ci fossero. Immaginali. Sì, certo, l'immagino. Ecco, ti vedono un dino, scorgono un animale, eccetera, lo devono catturare e sono lì con i loro compagni. Allora, fanno due cose. La prima cosa, li avvertono che c'è qualcuno. E li avvertono con la lettera più leggera che esiste, perché sennò il dino se ne accorge. Cioè, gli dicono... Ah, nasce da lì. Ma facendolo, aspetta, facendolo, mettono la mano davanti, così. Che è esattamente il nostro gesto di chiudere la bocca, quindi stare zitti e nello stesso tempo avvertire il compagno di non far far niente. Ma tu come fai a sapere queste cose? Allora, questa è una cosa... te lo dico, questa te la dico io. No, no, è stato scritto da due personaggi di cui uno conosce sicuramente, Jean-Jacques Rousseau e Cornulier, che erano due nemici del Settecento. Erano molto nemici perché Rousseau era un romantico, come sappiamo. Cornulier era un empirista. Però erano d'accordo sul fatto che il linguaggio nasce prima dei gesti e i gesti si trasformano in suono lentamente. E infatti questo sì diventa in greco sigao, sta zitto, stare zitti, e in latino sileo, cioè il silenzio. Sileo. Che guarda un po', sileo ha un verbo strano, silenziare. Silenziare però è un verbo transitivo. Cioè significa sta zitto. Invece il verbo transitivo vero è tacere in italiano, che viene da tutta un'altra radice, naturalmente. Il silenzio è meraviglioso. Il silenzio è pensiero, riflessione, amore di se stesso, non so. E anche a volte meditazione, è dolcissimo, è una cosa dolce, una cosa interna, vera. E noi viviamo tra, faccio un po' di pubblicità, tra il silenzio e il tuono. Ah, qui citazione di un libro di un noto cantaprofessore, oltre che di una tua famosa canzone. E' verissimo. Quindi alla fine, però adesso mi devi rispondere. Stai col preside, avresti fatto il minuto di silenzio o il minuto di rumore tu? No, adesso facciamo una cosa che ti impongo io, ti impongo, ti chiedo io. Sì. Non puoi più urlare, gridare, parole a bambera, quello che volete. Ci andiamo sul blog per i prossimi 32 anni, sì, va bene. Non importa. Va bene. Ti do un 3, 2, 1 ti do. Vado. Urlo? Devo fare. Fa tutti, eh? Tutti. Comincia tu. Tutti. 3, 2, 1, 5. Via. 2, 1. Il prossimo che dice che siamo un programma interintellettuale. No, sì, va bene. Basta, basta. Radical chic, la sinistra al caviare, che è il caviare? Qui urliamo come dei indemoniati. Vabbè, poi? Adesso silenzio. E poi signi che... Adesso 15 secondi di silenzio. Così croma l'auditer. Sono anche troppi. No, è per dire che siamo con lei, siamo con il dramma di questa ragazza, col papà, con tutte le cose belle del mondo che avrebbe potuto vedere. E questo papà meraviglioso che non dimentica mai e li sta vedendo per lei. Quindi era giusto fare rumore. È giusto, ma se mi permettete, una mia opinione, è giusto fare rumore, ma bisogna fare anche silenzio. Perché spesso il rumore è anche un modo per portare via l'attenzione su un'altra cosa, per non guardarsi dentro. Mi sono preparato anche io, ti ho portato la citazione del padre dell'etologia, Conrad Lorenz, che diceva Il dilagante bisogno di sentire continuamente rumore si spiega solo con la paura di riflettere. Ecco, non bisogna avere paura di guardare dentro di sé, in silenzio. Andiamo, altrimenti i femminicidi continueranno, se non guardiamo dentro e non sono sempre fuori. Senti Roberto, il gestore del cinema Orfeo, l'hai seguita questa storia a Milano? Sì, l'ho seguita, l'ho seguita. Mi interessa se però la tua opinione. Questo gestore, l'Orfeo è un storico film cinema di Milano, ha vietato la proiezione del documentario su Liliana Segre e lui dice non per motivi ideologici, ci mancherebbe, ma perché avevo paura di incidenti. Ecco, cosa ne pensi? Cioè bisogna essere coraggiosi oggi per fare una cosa normale, proiettare un film. Capisco benissimo che non l'ha fatto per motivi ideologici, perché è persona conosciuta, notevole. Però il problema delle reazioni, delle possibili reazioni. Adesso mettiamoci noi nei panni di uno che ha un negozio, nei panni di uno che ha un cinema e gli arriva un branco di studenti a spaccargli tutto. Può anche purtroppo succedere. Guarda, c'è questa imbecillità ormai nel mondo, dare la colpa a persone che non c'entrano niente. Una cosa è Netanyahu con le sue pazzie, una cosa è una grande persona come la Segre o altri, tantissimi altri seriani. Non si può assolutamente. Ti dico una cosa. Guarda questo libro. Questo libro l'hanno scritto i ragazzi di tre classi del liceo di Einstein di Torino. Che libro è? È una ricerca meravigliosa su 20 donne che sono state massacrate da Auschwitz, in altri posti, in altri luoghi. 20 donne ebraiche. Sono andati a cercare tutto questi ragazzi. Documenti di nascita, i passaggi da Carpi, prima alle nuove di Torino, poi a Carpi, poi purtroppo nei campi di concentramento. Hanno scritto un libro che ti commuove dalla prima all'ultima pagina. Ecco, vuoi sapere che questi ragazzi devono presentare questo libro il 10, il 10 di dicembre, e non è che abbiano trovato chi li presenta. Allora gli ho detto, vi presento io, per un semplice fatto che io sono conosciuto, tutti sanno chi sono io. Se si permettono di contestarmi per una cosa del genere, ho le risposte. Se invece contestano voi, non la passano più liscia per tutta la vita. Grazie Roberto, no, perché se non facciamo un applauso qui però non lo facciamo più. Rumore qua ci vuole perché, cioè, qui stiamo, ci siamo all'impazzimento, capite? Cioè, siamo all'impazzimento, cioè, no Roberto, cioè, come diciamo, come è folle dare dell'antisemita a chiunque critichi gli obbrobri di Gaza, allo stesso modo è folle non fare, come è successo a Selva di Cadore, non prendere la prenotazione di un cliente israeliano perché è connazionale di Netanyahu, ma mi sembra una cosa veramente folle, no? Cioè, vabbè, senti, Roberto, ieri c'è stato, parliamo ancora della tua amata scuola, c'è stato uno sciopero in difesa della scuola pubblica, però è stata anche l'occasione, come sempre succede, in questi casi si parla più degli incidenti che non dei temi dello sciopero. Cos'è successo? A Torino hanno bruciato un fantoccio con le figie del ministro della pubblica istruzione, Val di Tara, hanno, c'era un cartello della Meloni con i segni di mani insanguinate sul cartello e però l'immagine che ha colpito tutti è l'immagine, è questa foto, vediamola, quella della P38, cioè dei ragazzi in corteo che mimano la pistola che, anche perché è un'immagine che per chi non ha più vent'anni, ma ne ha qualcuno in più, rievoca immagini di antichi cortei, non so se possiamo vedere dove appunto negli anni 70 c'erano le stesse persone, non le stesse persone, ma lo stesso gesto. Ecco, che effetto ti fa questo revival che forse avremmo preferito risparmiarci? Mi fa un brutto effetto, mi fa un brutto effetto, Massimo, a tutti noi fa un brutto effetto, perché la violenza di questo, qualsiasi violenza non ha nessunissima giustificazione, si parla nella vita, si discute, non si fanno queste cose. Al massimo, al massimo, al massimo, Massimo, guarda che bel gioco di parole, al massimo, al massimo, è una roba fantastica, fantastica, al massimo, sì, vabbè, si possono bruciare delle immagini, dai, fa parte della magia simpatetica, cioè anche tu sentirai un po' di prurito sulla pelle, visto che noi bruciamo, non è niente di grave, ma quello che mi ha colpito di più di questi ragazzi è che hanno chiesto due cose fondamentali, la prima è che l'insegnamento a scuola sia un po' più slegato dalle logiche del profitto, questo è importante, questa è una cosa rivoluzionaria, cioè vuol dire che la scuola è fatta per costruire un uomo, non un commerciante, un industriale o un negoziante o anche un artista, no, costruisci un uomo, quello che deve essere un uomo per avere gli equilibri dentro, per poter fare quello che sente nella vita, poi dopo, dopo, l'università sceglierai l'indirizzo e tutto il resto, quindi queste logiche di profitto, via, altra cosa non secondaria, psicologia, uno psicologo a scuola, e ce n'è un bisogno assoluto, perché i ragazzi devono parlare, saper parlare non solo con i genitori e con i compagni, ma anche con una persona estranea, perché si sentono anche più liberi a volte di parlare con una persona estranea e di dire i loro problemi che sono tanti. Scusami, tu non me l'hai detto, ma io la so questa cosa qui, la sappiamo tutti e due, c'è stato un aumento finanziario per le scuole private, mi pare, per le scuole paritarie, sì, mentre non si è fatto nulla per quelle pubbliche. Ebbene, queste però sono scelte, c'è un governo di destra che fa politiche, in questo è coerente con la loro ideologia. Io voglio dire che questa è la cosa meno grave, nel senso che abbiamo votato la destra, e dobbiamo anche accettare qualcosa che faccia la destra. Questo è un dato di fatto, ma giustamente i ragazzi fanno il loro mestiere, che è quello di manifestare il loro dissenso. E ora però vorrei farti dialogare un attimo, far entrare il nostro primo parogliere di questa sera, che è un uomo che ha fatto, di fronte a questa violenza che vediamo nei discorsi, nelle parole e anche nei gesti, che ha invece sempre fatto della mitezza la sua cifra, sia in politica che in letteratura. Walter Vertroni! Ciao Walter! Ciao! Bentornato, grazie! Comodo! Allora, hai visto anche tu queste immagini, questi gesti? Sì! Tu eri un ragazzo negli anni 70, insomma, quindi che effetto ti fa rivedere questo gesto, vedi? Come diceva Roberto, lo stesso effetto che fa o che dovrebbe fare a tutti. Io ho visto molti miei coetanei morire in quegli anni, ragazzi di sinistra, di destra, poliziotti, magistrati, giornalisti, passanti, ragazzi di 16 anni che venivano coinvolti in sparatorio. E perché è stato prodotto questo disastro? Se uno guarda la storia di questo paese, non si è realizzato né il progetto degli uni né il progetto degli altri. E questo sembrava averci insegnato che la violenza è un orrore e che, appunto, come diceva Roberto prima, si possono usare le parole, naturalmente anche con il senso di responsabilità che si deve avere. Le parole sono pietre, come c'era stato ricordato. Però questo senso di responsabilità dovrebbe averlo ancora di più chi ha responsabilità. Perché se chi fa il ministro, il politico, va in televisione, usa delle parole... L'hai sentito prima all'inizio con il sottosegretario... Sì, appunto. Quella è una cosa che va al di là del bene e del male, ma non può passare sotto silenzio. Cioè noi non possiamo... Elie Wiesel una volta mi disse, sai, nella mia vita... Elie Wiesel è stata una delle vittime della Shoah. Nella mia vita la cosa più terribile, e poi l'ho scritto in tanti libri, è stata l'indifferenza. E noi rischiamo di precipitare, gradino per gradino, in una condizione nella quale, alla fine, non avremo più forza di reazione. L'immagine che mi ha più spaventato è stata l'immagine del murale di Sammy Modiano e di Liana Segre, imbrattato. Perché mi sono chiesto, ma chi l'ha fatto? Perché il dramma è che potrebbe averlo fatto chiunque. Da destra, da sinistra, da qualunque estrema. Perché la violenza, a un certo punto, diventa trasversale. E talvolta, io avendo vissuto quegli anni me lo ricordo, a talvolta poi si connette ad altre violenze, ad altri giochi. Ma i fanatici finiscono per assomigliarsi tutti tra loro, da qualunque parte vengano. Il fanatismo ha questo. Sono l'unico partito. Il fanatismo ha questo, nega la possibilità dell'altro di esistere. Ma questa è la fine della democrazia. Che è il rischio del quale noi dovremmo parlare? Perché oggi il grande tema di questo nuovo millennio è se la democrazia è ancora lo strumento per regolare la vita delle persone o no. Adesso ne parliamo. Salutiamo Roberto. Roberto, avevi una cosa da chiedere a Walter? Prima di salutarci. No, no, no. Volevo, a parte il fatto che l'abbraccio, come sempre, è mio capo Walter, il presidente del Campiello. Ah, vero. Uno di me ci sarà di più. Siete in giuria, insieme, il presidente. Sì, sì. Come tutti gli altri. E' apparso anche nel libro mio, perché abbiamo fatto una discussione sul cinema e lui mi ha dato dei cinque finali meravigliosi di film che lui adora. Adesso non stiamo a ripeterli. Ma aveva perfettamente ragione. No, io volevo puntare una cosa sulla mancanza assoluta di affettività. Bisogna che l'affettività sia insegnata nei modi giusti ai ragazzi, alle persone. Se tu vedi, non ti mando alla lavagna. No, meno male. Però ti dico subito che il verbo adficio significa entrare nel cuore degli altri. Guarda un po' che bel significato ha. E la parola è affetto. E tu pensi un po' che affitto significa invece entrare nel caso degli altri. E' sempre vocale, simile la cosa. E' una vocale. Balla solo una lettera. L'affettività si conquista lentamente, lentamente con le cose, con le azioni, con l'esempio. Hai un bel parlare e dire a chi non vuole ascoltare. Con la dolcezza, con la sicurezza che dai ai ragazzi. Guarda che hai fatto bene, guarda che è una cosa giusta, guarda che devi andare avanti. Con queste cose qui. Perché i ragazzi che a noi sembrano maleducati, o sono magari anche maleducati, che sono scorbutici, che sono ribelli. In realtà stanno cercando una loro identità. E la cosa più facile per cercare la propria identità si trova in uno simoro. Cioè l'identità tu la raggiungi quando scopri che gli altri sono uguali a te. E allora ti nasce l'affettività. Grazie Roberto. Noi ci vediamo con te qua in studio sabato prossimo. Grazie Roberto. Tu invece valta questa lì perché Roberto ha introdotto un tema, ne parleremo anche più tardi con Pennaccio. Il vero grande tema di oggi, tu lo dici da anni. E cioè il tema è come fa una democrazia a sopravvivere nel momento in cui viene richiesta forza. La popolazione chiede forza. E infatti a destra evocano la figura forte. Possiamo noi essere capaci di esprimere un concetto di forza compatibile con la democrazia e la libertà? Ne parliamo adesso ma prima vorrei mostrarti, tu questa settimana sul Corriere hai di fatto usato un neologismo che è l'eologismo Trask, Trump più Musk. E noi abbiamo provato proprio a renderlo in un'immagine, possiamo vederla. Cioè questo è l'irco cervono sul nostro. Fisicamente sembra più Trump di Musk, però forse nel vero potere c'è più Musk e Trump. Beh sì, sicuramente quello che diciamo spara mentre l'altro suona il pianoforte è Musk. Musk è inquietante perché naturalmente lasciamo stare tutti gli apprezzamenti che sento diffondersi sulla sua genialità. però Musk ha in testa qualcosa di molto radicale, qualcosa che ha a che fare con le forme del potere. In sostanza quello di cui oggi si parla e che le elezioni americane hanno squadernato è questo interrogativo. La società digitale, la società veloce, la società della globalizzazione può vivere con la democrazia che è per sua natura processuale, dialogica. In democrazia si ascoltano le opinioni degli altri, si cerca la mediazione, il compromesso. O invece la velocità della società digitale non richiede una forma di governo semplificata in cui la divisione dei ruoli sia la seguente. A tutti noi è consentito di fare, come avete fatto prima qui in questo studio, rumore. Mandiamo i tweet, facciamo le proteste in rete. Raccogliamo firme. Però poi decide uno solo. Questa idea di saltare tutti i livelli di intermediazione, i sindacati, i partiti, le associazioni. Divisione dei poteri, perché in questo momento in America Trump controlla tutti e tre. E certo. Da questo punto di vista i ragazzi che vanno in piazza in un tempo di questo genere sono ossigeno per la democrazia. Poi è chiaro che la violenza non deve comparire, ma in un tempo di solitudine, di ansia, di disagio giovanile come questo, ma se dei ragazzi si trovano insieme per fare delle proposte democratiche che riguardano la vita politica, è un fatto positivo. Però il problema è che sono saltati una serie di meccaniche. Però scusami, tu teorizzi sempre che viviamo nell'epoca dell'istante, della dittatura dell'istante. Trump vince le elezioni, come spesso fanno anche le destre in Europa, proprio perché propone soluzioni magari impossibili, ma facili, immediate, che risolvono il problema dell'oggi, il migrante che mi dà fastidio, la transizione ecologica che non voglio fare perché è un danno economico. E per il suo alleato Musk è tutto l'opposto, è uno che vive sul termine lungo, è un visionario, c'è uno che ha ragione di andare su Marte, pensa per cicli. Come possono andare d'accordo due cose così lontane? Sono perfettamente integrabili, perché la semplificazione e la violenza del linguaggio, se uno pensa alle cose che Trump ha detto in campagna elettorale, lasciamo stare gli immigrati che mangiano i gatti e tutto, ma il linguaggio di odio che ha trasferito nei confronti dei suoi avversari lo si trova perfettamente nel fatto che Musk dà dello stupido al cancelliere tedesco, non è che dice non sono d'accordo con te. Senza neanche argomentarlo, quattro parole, sei uno stupido, ma perché questa è la logica binaria nella quale ci si vuole precipitare la rimozione della complessità e dello sforzo, e questo riguarda l'altro campo, che bisognerebbe fare per tradurre la complessità della comprensione del presente in una proposta comprensibile. Ti faccio un esempio, io penso che uno dei grandi errori della sinistra in America e non solo sia aver ignorato e rimosso, anche un po' con una scrollata di spalle, il tema della sicurezza delle persone. La sicurezza delle persone è un tema tanto più avvertito nelle zone popolari, laddove c'è maggiore disagio e povertà, lì c'è maggiore insicurezza, dove ci sono meno luci accese nei quartieri, dove ci sono meno strutture sociali, meno luoghi di aggregazione. Allora, assumere il bisogno di sicurezza, anche di sicurezza fisica, porsi il problema di governare i flussi migratori combattendo le forme di discriminazione e le follie orrende, appunto le parole, deportazione di massa che ha usato Trump, ma cercare di fare in modo di integrare le persone che vengono aiutando loro stesse ad essere... Governare le paure, anziché... Governare le paure democraticamente. Se la democrazia considera tutti i problemi che sono posti di fronte a sé come delle invenzioni, se la democrazia risponde col politicamente corretto, che diventa un imbrigliamento della libertà di ciascuno, o negando il tema dell'immigrazione o altre cose analoghe, la democrazia alla fine finisce col cedere e col favorire una soluzione di tipo autoritario. Senti, adesso ti faccio vedere, questa settimana è successo un fatto sui social che comunque ha toccato la vita di tantissime persone. La fuga in massa, una volta si diceva se vince il mio avversario politico lascio il paese, adesso si lascia virtualmente. Era una fesseria. Sì, era una fesseria, invece adesso si lasciano i social. C'è stata la fuga in massa da X. Guardiamo il nostro Andrea Nuzzo, il nostro influencer. An, non influencer, mi raccomando. Lui destruttura i social. Vediamo Andrea Nuzzo. Non posteremo più i nostri contenuti su X. I benefici di stare su X sono ormai superati dagli aspetti negativi. È una piattaforma tossica. Con queste motivazioni, lo scorso mercoledì, il Guardian, uno dei principali giornali del Regno Unito, ha annunciato di lasciare la piattaforma di proprietà di Elon Musk. Ma la testata britannica non è stata l'unica ad averlo fatto e non rappresentano una novità. I primi addi risalgono infatti al 2022, con l'acquisto di Twitter da parte di Musk. Il motivo? L'elevata diffusione di contenuti estremisti e la totale assenza di moderazione. Tornando al 2024, come il Guardian, anche il quotidiano di Barcellona all'avanguardia ha abbandonato la piattaforma. E in Italia, dopo l'attacco di Musk ai giudici italiani, La chiusura dell'account X è stata una scelta condivisa da diversi personaggi pubblici, tra cui Piero Pelù, Milena Gabanelli, Sandro Ruotolo e Francesco Cuccini. Nei post a commento degli utenti, qualcuno sostiene la scelta, altri non la condividono. Come il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che, in risposta al tweet di addio di Gabanelli, scrive Non mancano però frasi di scherno, che si possono leggere, ad esempio, sotto al tweet immancabile del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che interviene condividendo questa immagine scrivendo «Elon Musk dormirà lo stesso?». Concludiamo con una curiosità. Molti degli utenti in fuga da X, soprattutto negli Stati Uniti, si stanno iscrivendo in massa a Blue Sky, piattaforma di microblogging nata da una costola di Twitter che, proprio oggi, ironia della sorte, spuntava in trend topic su X Italia. Tu sei ancora su X? Sinceramente penso che questo sia un effetto desiderato, perché la struttura linguistica dei social è fondata sull'idea che ci si debba separare gli uni con gli uni, gli altri con gli altri. Non si debba parlare, non si debba incrociare le ragioni, si debba gettare dell'olio bollente sul tuo avversario. Ognuno ribadire la propria posizione. Ma questo è, appunto, la negazione in principio dell'essenza della democrazia. E quindi il problema che noi abbiamo di fronte è un problema ancora più grande, perché sai quando è che le democrazie hanno cominciato a vacillare? Quando non sono riusciti a definire regole per i social. La rete è un fenomeno molto bello, molto importante, molto positivo. I social sono più complicati. Il livello di intrusività dei social nella vita di ciascuno di noi non ha paragoni nella storia umana. Diciamo, questi strumenti sanno tutto di noi, sanno della nostra condizione sanitaria, condizioni del nostro modo di parlare. E con l'intelligenza artificiale in futuro potete immaginare i nostri dati. Interranno i tempi della nostra comunicazione, i pensieri lunghi dei quali si parlava un tempo in una società dell'istante non sono praticabili. Per cui tutto si riduce a parole semplici, immediatamente comprensibili, se possibile esasperate. Quindi se si fanno un social di sinistra, un social di destra, per loro è l'ideale. Così ognuno si parla con i suoi. Gli uni si convinceranno e discuteranno tra loro, gli altri si galvanizzeranno. Ma questo è appunto ciò che bisogna evitare. Senti, che effetto ti ha fatto l'intervento proprio su Wilkes, del Presidente della Repubblica di Mattarella, in difesa dell'autonomia, dell'identità italiana, dopo l'attacco ai giudici fatti da Musk? Ai giudici italiani? Sì, io ho sentito... È abbastanza un fatto nuovo, incredibile. Lui l'aveva fatto anche quando dall'altra parte un ministro francese aveva detto qualcosa di simile. Però Elon Musk non è un politico. La stranezza è Elon Musk. Elon Musk che dice quella frase, ma non so se tu hai letto sul nostro giornale, sul Corriere della Sera, Steve Bannon ha trattato Giorgia Meloni come se fosse un... Così, un... C'hai deluso, ragazzina, il concetto era questo. Sì, ma con un tono delisorio e aggressivo. Io mi sarei aspettato una reazione, sia Steve Bannon, sia Musk. Ho sentito in televisione... Forse è uscita da X la Meloni, quindi non può più rispondere sui social. Ho sentito in televisione il ministro Salvini dire... Confondere la sovranità nazionale con il sovranismo. Sono due cose molto diverse. Mattarella difende la sovranità nazionale dell'Italia, cioè il fatto che noi decidiamo per conto nostro, senza che ce lo dica nessuno, quello che dobbiamo fare. Il sovranismo è in una società nella quale nessuno dei problemi con i quali abbiamo a che fare, da quelli dell'ambiente a quelli economici, da quelli delle pandemie a quelli della guerra, risolvibile su base nazionale. È una stupidaggia. Con la parola Doge, Alessandra Sardoni. Ciao Alessandra. Ciao. Allora, sentito cosa stavamo dicendo con Veltroni. Allora, intanto ci spiega... Il Doge è naturalmente l'acronimo per definire il nuovo ruolo di Musk all'interno del governo. Se tre anni fa, o forse anche solo un anno fa, mi avessero detto Elon Musk diventerà un ministro degli Stati Uniti, avrei pensato a una barrizzelletta. Invece oggi Elon Musk è un ministro del governo Trump. Ecco, si ironizza molto. Ho visto anche quel meme dove... Diciamo che non è esattamente un ministro, non sarà, ma questo è il dipartimento dell'efficienza del governo ed è, diciamo, la precisazione che all'esterno del governo è stata detta in qualche modo da Trump, ma in realtà è nel cuore del governo, ovviamente, e quindi dell'amministrazione. Vuole rivoluzionare lo Stato, tagliare centinaia di milioni di posti. Massimo, si ironizza troppo. Per me stavolta non c'è niente da ridere. Il governo, l'amministrazione di Trump, non sarà come i primi quattro anni. Sarà radicalmente impegnata a realizzare le cose che ha annunciato e che facciamo finta di non sentire che vogliono realizzare. Stavolta le fanno sul sede, perché l'altra volta aveva un po' di prudenza del neofita. Poi era frenato da quello che lui chiama il deep state e che adesso, attraverso Musk, vuole cancellare. Questo serve esattamente, e tra l'altro era in tutti i programmi, lo dicevamo anche l'altra volta, sono stati dei programmi perfettamente raccontati e scritti all'elettorato da parte di Trump e quindi hanno votato anche questo e questo piano per sostituire una grande parte del deep state, dei funzionari, di licenziare. A questo serve Musk e la sua esperienza. Questo serve proprio per evitare l'effetto che Trump ritiene di aver subito nel precedente mandato. Ma perché Musk ha questo interesse? E' vero che si parla, come dicevamo prima, manda il tweet sul tedesco, sul cancelliere tedesco, commenta. Però perché particolarmente sull'Italia? L'anno scorso i tweet sulla denatalità italiana, adesso lo attacco ai giudici. Parla spesso d'Italia. Perché? Sì, allora, questa domanda che mi fai è molto importante. Non è un interesse italianico. No, non è un interesse italianico. No, sappiamo che ha una grande passione per l'antica Roma, il Colosseo, eccetera. Però ovviamente non è questo. Per quello che ho potuto capire, leggere, anche sentendo tanti osservatori ed esperti, per rispondere a questa domanda, in realtà la parte di affari e business che viene anche adotta come uno dei motivi, perché naturalmente ci sono tanti interessi, ci sono interessi che sono anche in Italia. Starlink, SpaceX, quindi gli accordi che può fare per le ambasciate, queste cose qui, hanno un Tesla, che però per il momento in Italia non c'è, c'è in Germania e Svezia, non c'è. Quindi sono sicuramente un argomento, però non sono l'argomento. L'argomento, secondo me, è quello che diceva prima Walter Beltroni. Questo è un progetto politico, perché l'Italia, dal punto di vista degli interessi d'affari di Elon Musk, è un'inezia. Anche oggi il Financial Times apriva con l'enorme valutazione, era nella prima pagina del Financial Times di oggi, l'enorme valutazione esponenziale che hanno avuto le aziende di Elon Musk e al confronto qualsiasi affare possa fare qui. Anche se metti satelliti... Per noi è importante, naturalmente, però invece è un progetto politico ed è un progetto politico di aggregare la destra, una destra su valori di destra, ultraconservatori, e soprattutto senza laccioli, perché il tema è deregolamentare ovunque e aggregare una destra su questo. Da questo punto di vista, Giorgia Meloni è un interlocutore che a Elon Musk piace, ha apprezzato di essere stato scelto per premiare l'Atlantic Council, è venuto qui, ritiene che sia un personaggio importante in Europa per la destra. Non è l'unico, naturalmente, però sicuramente conta e è anche più simpatica di... Ma sì, assolutamente. La cosa che dice Alessandro è che oggi, questa settimana, tutti i giornalini hanno scritto lo fa perché vuole mettere i satelliti in Italia. Quello è un passaggio. E' un interesse, ma... Quello è secondario. Il vero obiettivo è non solo in Italia, per questo la Germania, per questo le polemiche sono state sulla Spagna. Per questo Orban. È sostanzialmente smontare l'Europa. E l'Europa tu come la smonti? La puoi smontare con i dazzi, perché se si applicano i dazzi dei quali ha parlato Trump, gli effetti sulla vita sociale dei nostri paesi possono essere devastanti, con il sostegno alle forze sovraniste di questa destra estrema in tutti i paesi europei, con il disimpegno sui temi della difesa e della sicurezza, cioè una Nato ridotta perché l'America se ne sta a casa sua e si fa gli affari suoi se c'è l'Ucraina occupatene voi europei, tutto questo può creare una condizione di collasso di un'Europa che in queste ore sta dando una dimostrazione grottesca di se stessa, perché in questa situazione non riescono neanche a varare la Commissione. Sì, è una cosa veramente grottesca. Oggi l'Europa dovrebbe, di fronte a quello che accade, accelerare per fare gli Stati Uniti d'Europa. Ma questo è esattamente quello che mette più paura all'attuale amministrazione americana. Ma non succederà perché mi pare che gli ego dei singoli leader non me li vedo disposti. Noi diciamo che l'ego di Musk, anche forte dei suoi successi, è sicuramente qualcosa che tra l'altro è difficilmente catalogabile secondo le nostre strette categorie politiche. È sicuramente un fenomeno completamente nuovo. Impareremo a conoscerlo. Sarebbe un ottimo oggetto per un'indagine del tuo commissario, Buonvino. Siamo arrivati al quinto capitolo. Io l'ho letto tutti e alcuni l'ho anche presentato. Ma io sto sempre aspettando, lui lo sa, il delitto su cui penso che Walter ne sappia più di chiunque al mondo e cioè il caso Pasolini. Io aspetto l'indagine del commissario Buonvino. Nell'attesa mi godo quella nel circo. Perché ti colpisce? Il circo è un luogo che ha sempre diviso tutti noi. C'è chi lo ha. Tu lo ami il circo? O tira triste? Io sono sul filone tristezza. Lo so che piaceva a Fellini. Ma no, ma lo si può amare. Io lo amo. Perché hai scelto? Lo amo come lo hanno amato Fellini, Chaplin, Woody Allen e tanti altri. Perché hai deciso di ambientare in un circo questa storia. Perché il circo è, in realtà questo è un libro giallo quasi più sul disagio di questo tempo che su un meccanismo poliziesco. Il circo è la facciata. E il circo è perfetto. Perché il circo ha dentro di sé un'ambiguità. E questa ambiguità è il fatto che è un meraviglioso luogo di spettacolo ma anche un luogo carico di inquietudine. I pagliacci mettono paura. Io ho intervistato un clown che mi ha detto quando noi entriamo in scena i bambini scappano. Perché la percezione del clown è molto cambiata. Quando io ero ragazzo e andavo a vedere gli spettacoli del circo non c'erano neanche le reti. E io tremavo all'idea che l'acrobata o il lanciatore di coltelli il circo non lo sbaglia mai. E lo so, lo sbaglia mai. 0,001 per mille. Esatto. C'è sempre un caso. Quindi è un luogo che ha dentro di sé un'attenzione e poi una struttura integrale. Quelli vivono sempre insieme, dormono insieme, mangiano insieme, fanno gli spettacoli insieme. E quindi narrativamente è molto affascinante. godiamoci del commissario Buonbino così ci distraiamo dai temi del... Ma forse è meglio non distrarci. Non è il momento di distrarci. Non è proprio il momento. È il momento di lottare, davvero. Perché è un momento di quelli veramente disvolto della storia. Sì, sì, è un passaggio d'epoca. Un passaggio d'epoca. Grazie a Walter Bertoni che riavremo presto. Ci stanno raggiungendo con Alessandra, Serena Dandini e in collegamento Giovanna Botteri. Stanno arrivando, restate lì. In altre parole siamo tornati con Alessandra Sardoni e con la parola eredità Serena Dandini. Buonasera! Ciao Serena, bentornata. Che bello! Eccoci qua. Prego. Un piacere. Accomodati. Allora. Ciao Serena. Qui ho una sorpresa, un regalo di nascoste per te, ma dopo, dopo è nascosto. Ma tu sai tutte queste cosette nascoste? Nascoste, per te ho una sorpresa dopo, una sorpresa davvero speciale che ha a che fare con la parola che porti, la parola eredità, anche perché tu sei, tra le mille cose, direttrice artistica dell'eredità delle donne. Un festival che andrà adesso... Ah no, eccola, guarda che bella l'Occandina. vedi, l'Occandina? La conosci? Beh, diciamo abbastanza, dal 22 al 24 a Firenze, ritai il settimo anno, incredibile, non ci sembra vero, ma... E non ci sarà crisi, è l'unico caso in cui il settimo anno non c'era crisi del settimo anno, anzi... se lo facciamo la prossima settimana. No, però ci siamo allargate perché abbiamo fatto una call nazionale perché non ci bastava, anche se con l'amore e l'accoglienza di Firenze straordinaria, e quindi abbiamo chiamato, come dire, una chiamata alle armi di tutte associazioni, qualsiasi genere, iniziative che avessero quegli intenti simili al festival di Empower Femminile, di... e... Non usare parole inglese che poi le fitto, poi dopo c'è del problema... Di emancipazione femminile! No? E abbiamo avuto una risposta di più di 450 città, piccolissime paesi, città grandi, dove contemporaneamente a Firenze faranno... Faranno iniziative, quindi verranno ricordate da grandi donne valorose che magari la storia ha un po' coperto e sono rimaste invisibili perché le nostre radici sono importanti per costruire un futuro... Però i pigri come me potranno invece anche guardarselo online, tranquilli, su iPad, perfetto. Ora invece sempre abbiamo pigri, noi qua sai con chi ci colleghiamo? Ci colleghiamo con la nostra Giovanna Botteri che abbiamo mandato, visto che faceva molto freddo anche a Roma, abbiamo mandato in un posto che fa ancora più freddo, non è Mosca ma è la mia città, a Torino, Giovanna Botteri, con la parola Torino! Giovanna! i guanti, c'hai i guanti! Secondo me Giovanna prima della fine della stagione mi odierà perché l'abbiamo mandata prima al centro al par di New York che tremava seppure ammalata ma stasera... Senti che tu ma tu veramente sei terribile! Giovanna, stai bene? Sì, ecco... Benissimo, a Piazza Castello come vedi, come sai e come riconosci! Sì, mamma mia, è uno dei posti più belli del mondo ma io sono di parte però lo è davvero bellissimo! allora, Giovanna tu vai nei posti e succedono un sacco di cose ad esempio ieri Torino ne parlavamo prima con Roberto Beccioni e con Walter Bertroni ci sono state queste manifestazioni degli studenti ma poi è passato sui giornali l'immagine fortissima di quei ragazzi che mimano il gesto dell'EP38 ecco, se ne parla in città ci sono delle ricasche o già tutto dimenticato? Ma io direi tutto dimenticato la vedi la piazza alle mie spalle tranquilla assolutamente c'è un'aria prefestiva la manifestazione che c'è stata qua ieri era essenzialmente di studenti anche molto giovani giovanissimi saranno stati 4-500 persone e forse quello che colpisce di più nella placidità fredda freddissima di questa sera torinese e la reazione di fronte a una manifestazione che era stata fatta per un nome l'Oni Day ma anche per solidarietà con Gaza e la Palestina ecco l'idea che questa manifestazione di studenti liceali possa essere l'inizio del terrorismo come ha detto qualcuno come ha detto anche il ministro della giustizia e che da questo possa nascere una rivolta addirittura armata per quel gesto della Prittentotto che sarebbe stato fatto ecco questo colpisce forse più degli incidenti che ci sono stati alla fine delle manifestazioni dove peraltro 15 forse 20 poliziotti sono stati feriti quindi solidarietà sicuramente di tutta la città ai poliziotti che stanno facendo il loro lavoro che sono rimasti feriti mentre facevano il loro lavoro ma anche perplessità nei confronti della richiesta di un pugno duro durissimo nei confronti di un centinaio di studenti che stava manifestando ecco Serena che ne dici ma io sono molto d'accordo naturalmente con la nostra inviata e penso anche che va condannata ogni violenza ogni gesto violento ogni anche discorso violento proprio in generale che possa ispirare spingere alla violenza tra l'altro è anche molto controproducente perché poi in realtà ci sono state tantissime manifestazioni in tutta Italia per fortuna non violente però alla fine questo rimane ci sono motivazioni che è importante oggi per il futuro a proposito del mio festival del futuro parlare della scuola pubblica mai come in questo momento perché è il futuro dei nostri figli dei nostri nipoti è il nostro futuro e quindi ci sono sicuramente discussioni interessanti ma queste queste problematiche sono coperte nel senso che rimane questo gesto quindi tu che sei qualcuno ci entra va in questa manifestazione apposta proprio per tu che sei in televisione che fai la televisione se lei no naturalmente dovresti parlare no dire agli studenti non vi fate mettere nel vecchio gioco della provocazione non vogliamo tornare agli opposti estremismi tutti questi giochi no che conosciamo e sono solo che negativi quindi invece ci interessa sapere perché ascoltate Zia Serena che ha ragione no ma sei tu che fai televisione che ha ragione che puoi parlare allora Giovanna tu sei andata a Torino ma in realtà sei andata perché volevi raccontare e testimoniare quello che sta capitando a quello che rimane o era la capitale italiana e non solo italiana dell'automobile giusto? giusto per parlare di un altro tema che ha cuore questa trasmissione di cui si parla molto poco si parla poco di scuola ma si parla anche molto poco di lavoro e soprattutto del lavoro che non c'è e in questo momento in questa città c'è il monumento al lavoro che non c'è c'è il monumento alla cassa integrazione ed è questo grandissimo immenso stabilimento di Mirafiori dove noi siamo andati per capire quello che sta succedendo a Stellantis per capire soprattutto quello che sta succedendo ai suoi operai e forse possiamo vedere assieme questo viaggio che abbiamo fatto vediamo ecco cosa resta oggi del gigantesco impianto industriale costruito dalla Fiat a Mirafiori la più grande fabbrica automobilistica d'Europa capannoni chiusi abbandonati in attesa di demolizione una produzione scesa ai livelli di 70 anni fa e decine di migliaia di lavoratori licenziati o in cassa integrazione qui si vede plasticamente la fine di quello che era la Fiat ormai siamo a 17 anni di cassa integrazione ci sarà cassa integrazione anche a dicembre le voci dicono anche a gennaio a febbraio anche se non è confermata Stellantis sta gestendo l'eutanasia dell'auto italiana ci usa come una marginalità Michela è in cassa integrazione da maggio tiene duro rivendica la sua dignità di persona e di lavoratrice ha mutui e bollette da pagare e sa che non deve ammalarsi perché non potrebbe permettersi visite mediche immediate normalmente guadagniamo a pieno regime sui 1600 euro e quindi siamo già abituati comunque a fare dei sacrifici in cassa integrazione ti vengono a mancare altri soldi molti soldi in meno ho conosciuto decine di lavoratrici e lavoratori che non raccontavano a casa che erano in cassa integrazione che uscivano al mattino per andare al lavoro e andavano al bar o giravano per Torino perché è una vergogna noi nonostante tutto nonostante il fatto che ti alzi alle 4 del mattino d'inverno al freddo che vai dentro una fabbrica a lavorare come uno zombie però quel lavoro lì lo vogliamo lo vogliamo avere perché vogliamo essere degni della persona che siamo non vogliamo ripeto essere assistiti io non non lo so dove andrò o cosa farò perché comunque ho anche un'età di che sono vecchia cioè da lavoro insomma cioè è brutto dirlo così però ho 51 anni e quindi naturalmente sono sono una persona che è fuori dal mercato del lavoro i suoi genitori sono immigrati a Torino dalla Sicilia all'inizio degli anni Sessanta tutti e due opera i Fiat tutti e due pieni di sogni per il futuro forse forse loro l'hanno realizzato il loro sogno dandoci dandoci la possibilità di avere un lavoro una casa una stabilità una tranquillità loro erano arrivati da periodi difficili e forse i loro sogni si sono realizzati in noi però nello stesso tempo cioè noi gli stessi sogni non non riusciamo a realizzarli né per noi né per i nostri figli grande servizio Giovanna è amarissima realtà come sempre poi Giovanna ci racconta che dietro i numeri ci sono le persone ci sono le facce le vite le loro storie le storie Giovanna oltre a questa signora Michela che cosa hai visto oltre a quello che ci hai documentato che atmosfera che umore hai trovato ho visto ho visto una grande preoccupazione quando tu mi dicevi no che cosa che cosa vive Torino una grande preoccupazione perché i numeri i numeri di stellanti sono i numeri di questa città non solo gli operai che lavorano in fabbrica non solo gli operai che hanno perso il lavoro che sono in cassa integrazione ma tutto l'indotto questa è una città che è cresciuta con la Fiat che è diventata grande con la Fiat dove tutto in qualche modo è legata a quella che è la più grande realtà industriale d'Italia che cosa succederà è quello che si chiedono veramente tutti in questo momento a Torino che cosa succederà al lavoro qual è il futuro e quali sono i progetti industriali ma non solo per Torino per tutta l'Italia per tutto il nostro paese quale è il futuro che cosa si sta facendo che cosa si fa studiando perché il paese non si ritrovi con migliaia e migliaia di altri disoccupati o di altri accassi integrati ci pensi a Elon Musk ma non credo per ora non ha portato Tesla quali sono i rapporti tra il governo e la famiglia Elkan Agnelli ma diciamo pessimi e sono storicamente pessimi storicamente la famiglia Agnelli ha sempre avuto dei rapporti buoni o comunque diplomaticamente buoni con i governi in carica è la prima volta che c'è un conflitto così forte però questa avviene da lontano dai tempi in cui erano all'opposizione Fratelli d'Italia perché ritrovavo le parole di una nota di Fratelli d'Italia proprio quando c'è stato l'accordo con la Peugeot FCA Peugeot e loro siccome è un accordo che ha una trazione francese forte perché c'è anche una quota del governo francese dentro Stellantis la nuova società e avevano detto Fratelli d'Italia ecco i servi si erano scatenati contro l'accordo avevano detto i servi del governo hanno facilitato e stanno facilitando il saccheggio questo era all'opposizione ancora era la fine del governo Conte 2 ma questo è una realtà aziendale è un accordo aziendale non è andato in Parlamento e questo naturalmente ha scatenato delle polemiche e anche delle dichiarazioni comunque di Giorgia Meloni proprio di di critica molto forte e molto esplicita a questo però il problema qual è è che anche questa volta in effetti era stato fatto un accordo del governo il ministro Urso aveva stanziato 900 milioni di euro di incentivi in questo caso un'inonda di incentivi per produrre l'obiettivo era un milione di nuove veicoli e così non è stato sono molti molti di meno meno dei 700 mila che già erano di meno quindi c'è un sentimento come dire di accordi disattesi ma anche in un cerchio più largo di tutta questa questione un problema serio che riguarda l'automotive comunque e di impotenza del governo perché che cosa fa in più c'è il tema appunto della Francia viene vissuto anche come qualcosa che non è più italiano però è italiano perché le ricadute di questi posti di lavoro sono questi quindi c'è un'impotenza un tema di crisi del settore dell'automotive che riguarda anche la Germania e che riguarda in un cerchio ancora più ampio la questione del passaggio all'elettrico e quindi del tema del vari green deal accordi cosa fare quindi è una questione complicatissima che poi individua questa parte qui finisco su questo fa sì però che anche Elkan abbia poi affidato al foglio una specie di come suo cahier de doleance suo dicendo vengo trattato in questo modo come se fossi il nemico e questo per certi versi può anche costituire poi un alibi per non parlare le cose però insomma è una questione complessa e queste storie però non ci ricordano la ricaduta specifica Giovanna prima di salutarti ti leggo un'ansa di pochi minuti fa razzi cadono nel cortile della casa di Netanyahu a Cesara era già successo un drone lanciato dal Libano nelle settimane scorse due razzi sono atterrati nel cortile della residenza del primo ministro Netanyahu la polizia e la sicurezza interna affermano che questo incidente segna una pericolosa escalation Netanyahu e la sua famiglia anche stavolta non erano in casa l'escalation perché è evidente dopo che la guerra è stata portata a Gaza in Libano dopo gli attacchi anche a Teheran nel cuore dell'Iran questo è l'attacco nel cuore di Israele nel cuore di Israele che vuol dire che in questo momento la guerra rischia veramente di allargarsi e di sconvolgere l'intera regione è un momento molto è molto molto difficile quello che viviamo con questa guerra vicina che è quella dell'Ucraina la guerra altrettanto vicina a quella del Medio Oriente e queste minacce che la gente sente nel quotidiano al lavoro e alla sicurezza del lavoro ma insomma queste sono le nostre parole e sono contenta anche nel freddo della piazza di continuare a ripeterle grazie grazie Giovanna buon sabato sera nella mia Torino ciao grazie a Giovanna Bottele noi ci spostiamo da Torino a Modiano dove ospite di Book City Serena c'è uno degli scrittori francesi più amati da tutti noi e dai nostri telespettatori in altre parole Daniel Pennac buonasera Daniel e grazie e grazie davvero buonasera a voi allora tu sei venuto in Italia per presentare il tuo ultimo libro che si intitola Il mio assassino che è un prequel dico bene prequel della saga di Benjamin Malossè ora stavolta il protagonista non è il celebre capo espiatorio Malossè che tutti ormai citiamo diciamo tutti Malossè per definire capo espiatorio ma il terribile nonnino di cui avevamo già letto in capolinea Malossè ecco perché hai scelto di scrivere di un cattivo non ce ne sono già abbastanza in giro di cattivi è uno dei protagonisti tutti gli altri sono amici miei è un libro in cui io descrivo i miei amici che tutti hanno dato uno dei personaggi di Malossè allora di tanto in tanto c'è un cattivo e questa volta è il cattivo come si dice in italiano è il nonnino è il famoso nonnino qualcuno dice c'è qualcosa di autobiografico in questo nonnino ecco ma è vero ho letto che anche tu avresti potuto del criminale no sì lui lui si è dato del criminale in un'intervista ho detto che tu da ragazzo hai corso il rischio di diventare un criminale ma sono saltato quando ho letto sta cosa sono saltato sul divano ma è vero quando ero giovane ero in collegio ed ero un pessimo alunno e mi facevo sempre rimandare e quando entravo in una nuova scuola perché mi mandavano in un'altra gli studenti volevano sempre bullizzarmi in un certo senso e io rifiutevo rifiutavo un tale atteggiamento e allora ecco che mi scontravo con i ragazzi che volevano farmi queste cose che volevano vessarmi e un giorno mi sono detto basta bisogna che la faccio finita di mettermi a litigare perché se no rischio di diventare pure un assassino allora a 18 anni 18 mi sono fermato fino a oggi non ho mai più alzato le mani su chi che sia da 18 anni applauso a presto 80 bene stasera continueremo speriamo per tutta la serata applauso però viviamo in un'epoca dove ormai nel cattivismo imperante dove è passata l'idea che se si è cattivi si è sinceri mentre se si è buoni si passa per ipocriti no è una stupidaggine questa opinione è una sciocchezza una fesseria che ogni tanto si può dire una sorta di virilità della cattiveria è una cosa molto stupida una delle declinazioni della cattiveria è quella verbale quella che corre sui social scusa perché non riesco a sentire il ritorno la violenza verbale sui social è uno dei difetti dei social è come se noi vivessimo nel secolo della lettera anonima e fosse una cosa normale tutti vivono in modo anonimo quello lì quello là tutto questo evidentemente non è un modo di vivere a un certo punto bisognerà regolamentare come funzionano questi social come ci si può difendere no Daniel perché la sensazione è che ci abbiano dato in mano una pistola ma non ci hanno dato il giubbotto antiproiettile cioè come fa a difendersi un adolescente tu sei stato un grande insegnante oltre che scrittore come fa un adolescente a difendersi dai social dalle critiche dagli attacchi beh serve che gli adulti facciano molta molta attenzione nel difenderli noi adulti sui bambini e sugli adolescenti abbiamo un dovere enorme di protezione però adesso tecnicamente è molto difficile difenderli perché tutto quello che succede sui social non è controllabile e allora soggettivamente noi dobbiamo difendere i bambini e gli adolescenti quando sentiamo che sta succedendo qualcosa di anomalo a questi ragazzi allora lì abbiamo un grosso ruolo da svolgere senti oggi tu lo dici anche spesso c'è bisogno c'è nell'aria un'esigenza un desiderio di un uomo forte che risolve i problemi questo è proprio bisogno della destra autoritaria ma esiste una possibilità una versione della forza che sia però compatibile con la democrazia io penso alla figura del padre e della madre e alla figura dell'insegnante c'è un modo diverso di essere forti che non sia essere autoritari si può a me pare che sia stato dato l'esempio di democrazia durante la seconda guerra mondiale avendo avuto ragione delle dittature Churchill per esempio De Gaulle in Francia incarnavano proprio questa sorta di democrazia vivente forte e combattiva cosa ne pensi di Trump? ma oggi Trump è un pagliaccio che non mi fa ridere affatto c'è niente di peggio che un pagliaccio che non fa ridere come un corno mi fa in surf sul complesso di inferiorità di una grande parte di un'america fa surf sul complesso di inferiorità della stragrande maggioranza degli americani che sono stati abbandonati dall'educazione nazionale americana senti il suo socio il suo nuovo socio Elon Musk che effetto ti fa questa è un'intelligenza deviata è un'intelligenza tecnica scientifica che è umanamente e socialmente deviata e esistono queste cose si esistono ma è l'uomo più ricco del mondo più potente del mondo quindi questo preoccupa un po' insomma senti è l'uomo più ricco al mondo il più potente al mondo forse il più pericoloso al mondo la questione è sapere per quanto tempo per quanto lo chiedo a te secondo te per quanto tempo ci abbiamo gli anticorpi ci sono gli anticorpi in questo momento è meglio giocare un po' con il caso diciamo che è molto pericoloso per 35 mesi 3 settimane e 2 giorni benissimo me lo sono appuntato senti più bello scrivo senti Daniel ma mamma no cosa cosa ne pensi tu insomma nei tuoi romanzi di Marossens ci hai abituato a conoscere a raccontare il mondo anche della migrazione dei migranti in Francia quindi è un tema su cui sei molto molto attento e sensibile cosa ne pensi del modello Albania che noi italiani il nostro governo sta un po' diciamo vorrebbe è un po' il nostro format il nostro nuovo format che stiamo lanciando in Europa il modello Albania non è nuovo in Europa la specialità dell'Europa è proprio quella di far fare i lavori all'estero con la Libia con la Turchia con l'Albania noi esportiamo questa manodopera allora moralmente io certo non ho un'opinione positiva però ne prendo atto e cosa ne pensi dalla Francia diciamo cosa ne pensi del nostro governo del governo Meloni sta riflettendo voi avete votato è una tendenza generale mondiale avete votato per un governo di estrema destra in quanto francese sono un po' preoccupato perché voi siete sempre avanti rispetto a noi quindi voi avete votato Berlusconi e noi ci siamo messi a ridere parecchio di voi ma noi due anni dopo abbiamo avuto Sarkozy non avessi mai stati prima scusa certi primati sono no e adesso sarà colpa vostra se arriva all'estrema destra da noi perché vi avremmo imitato pure questa responsabilità sentirmi dare scusate sentirmi dare del malossenne dall'autore di malossenne perché di fatto siamo i capi espiatori senti Daniela a proposito di malossenne ma questa è una mia curiosità da lettore scriverai ancora la saga di malossenne oppure è vero che stai pensando a un libro sul silenzio sono vecchio sono vecchissimo adesso non ho più il tempo di scrivere un malossenne è lunghissimo ci vuole un sacco di tempo per scrivere un malossenne il silenzio sì è un tema interessante però non so se scriverò un libro specificamente sul silenzio credo che scriverò un libro più vivo benissimo noi non vediamo l'ora di leggerlo ma intanto ci leggiamo il mio assassino di Daniel Tennac grazie grazie a Daniel grazie davvero buona serata grazie a voi grazie a voi grazie a Daniel Tennac intanto notevole è sempre stelena sempre intanto vi do una notizia per completare la pagina di Torino a Torino ci sono anche le finals Sinner ha già vinto la semifinale ha fatto in fretta domani gioca la finale contro Fritz che ha già battuto nel primo turno un applauso molto sentito quasi troppo quasi che uno no almeno un primato ce l'abbiamo anche lì oltre a tutti gli altri che ci ha ricordato Daniel Tennac abbiamo anche uno positivo adesso ti porto io Serena vi porto io la mia parola della settimana che è la parola decepare ognuno ha le parole che ha cosa significa decepare ce lo spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri guardiamo adesso verrà trivellata e distrutta la ceppaia siamo a Viale Angelico dove si sta svolgendo il deceppamento dei residui di tronchi lungo la strada attraverso questa macchina che tritura ed estirpa dal terreno la base della ceppaia è un intervento che fa parte del grande piano di decepamenti e di piantumazioni di nuovi alberi stradali ne pianteremo 5.782 tra novembre e gennaio e poi altri ancora nei mesi successivi e contemporaneamente realizzeremo più di 4.000 decepamenti era da tantissimo tempo che non si faceva pensate molte di queste ceppaie sono qui da più di 10 anni io mi diverto però non voglio diciamo esatto non voglio ecco era era tutta la vita che volevo farti questa domanda serena tu che hai una passione per le piante abbiamo anche presentato il tuo libro chi è mai capitato di deceppare soprattutto mi spieghi non so se è lescito rispondere se mi ha una domanda un po' ambigua comunque voglio dire se per avere nuovi alberi bisogna deceppare deceppiamo deceppiamo ma poi piantiamo si decepace ciò che viene deceppato importante è che non lo senta Saverio Raimondo perché ci può fare un pezzo ci può fare un pezzo sicuramente perché siete maliziosi sicuramente è un termine tecnico figurati nelle cose dei giardini dai siamo delle brutte persone ma è vero che stanno deceppando vicino a casa tua sì direi proprio sotto anche deceppano sotto casa però in effetti questi ceppi lasciati così insomma perché forse poi è un termine un po' romano che si assomiglia assomiglia un termine romano per non inceppare mentre deceppava il sindaco non so se possiamo vedere le immagini ha usato un gobbo cioè leggeva il testo su un gobbo ecco perché così non inceppava vedete aveva il gobbo e ha fatto bene perché altrimenti come avrebbe fatto a distinguere fra ceppaglia deceppare e deceppamento vabbè non ho già capito una ceppa va bene andiamo così oh sei arrivato uno che andrebbe veramente deceppato l'ho appena evocato Serena con la parolaccia della settimana Saverio Raimondo vedi ah accusate devo andare arrivo eccomi accusate eccolo eh faccio qua buonasera stavamo deceppando c'è tutta una situazione Serena buonasera Daniel Pennacca Saverio Raimondo va bene c'è tutta una situazione qua dietro alti e bassi qui siamo sui bassi Fabio Briatore qua dietro ha aperto un locale il gran milionaire c'è tutta una situazione vi dico solo che c'è un privé con Aldo Cazzullo che balla la pole dance è una cosa che non avete idea è tutto qua dietro è tutto qua adesso arrivo ragazzi faccio gramellini e torno allora vengo in questa trasmissione a portare ogni settimana una parolaccia quella di questa settimana è Vaffa Vaffa che non tutti sanno essere un piccolo comune in provincia di Rieti Vaffa in Sabina c'è anche una abbazia l'abbazia di Vaffa è un piccolo paesino insomma Vaffa è quel paese dove bisogna andare quando vi ci mandano però in Italia non è facile andare a quel paese visti i trasporti perché venerdì scorso per esempio il treno Roma-Genova è partito con 50 minuti di ritardo direte voi no d'anticipo per non fare tardi incredibile ma è vero non fa una grinza non fa una grinza insomma questo lo andiamo a dire ai passeggeri che sono arrivati aspettandosi un treno che era già partito notizia vera non sto scherzando il treno doveva partire da Roma termine alle 16.20 e invece è partito senza passeggeri appunto alle 15.00 qualcuno c'era i predidenti che erano arrivati prima è molto predidenti bisogna avere molta ansia per arrivare con 50 minuti perché c'era pure c'era pure lo sciopero dei mezzi erano quelli del treno prima che non era mai partito no ma in effetti il treno che doveva partire alle 16.20 invece è partito alle 15.30 però con l'ora legale sarebbero state le 16.30 quindi comunque nel ritardo di 10 minuti da quel punto di vista era tutto a posto ok quindi comunque con il fascismo lo sappiamo i treni arrivano in orario non sapevamo che il trucco era farli partire in anticipo vedi adesso abbiamo scoperto qual era il trucco comunque visto il disagio Trenitalia ha rassicurato i passeggeri che già venerdì prossimo il servizio tornerà a regolare cioè il treno Roma-Genova verrà soppresso come regola così è tutto a posto è passata la paura come si dice tutto regolato deceppiamo 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 anche i treni Elon Musk questa settimana ha detto che i giudici italiani se ne devono andare ma come se ne vanno che in questo paese non ci si muove i treni sono in ritardo voli cancellati auto bloccate nel traffico l'unico modo per viaggiare in Italia essere respinti dall'Albania come migranti è l'unico modo io ho fatto ho fatto proprio i calcoli con le app dei treni con il navigatore se tu da Torino vuoi arrivare a Brindisi beh ti conviene andare in Bangladesh immigrare in Italia essere mandati in Albania e da lì respinto arrivi prima arrivi prima ho fatto i calcoli arrivi prima lo diciamo a Giovanna Botteri che deve rientrare da Torino può fare questa triangolazione esatto deve fare così pensate gli immigrati che questa settimana ci hanno rimandato indietro con la nave beh hanno fatto Lampedusa Brindisi in sette giorni che è quanto ci metto io a Roma per arrivare da casa mia al centro con i lavori per il giubileo e senza nemmeno passare per l'Albania sono facendo il lungotevere quindi da questo punto di vista il tema in tema dei trasporti poi oltre al danno la beffa perché il TAR della Lombardia questa settimana ha respinto la richiesta di sospensiva del comune di Milano e quindi l'aeroporto di Malpensa adesso si chiama ufficialmente e definitivamente aeroporto internazionale Silvio Berlusconi e lì i voli non vengono cancellati lì vanno proprio in prescrizione ai controlli è così e funziona così adesso ai controlli le passeggere donne vengono fatte spogliare per motivi di sicurezza e non solo spogliare li chiamano Metal Detector Eleganti ecco lì i gate non sono numerati hanno altri nomi oggettine gate Noemi gate Ruby gate e potrei andare avanti così per ore ma invece credo che sia giunto il momento che anch'io me ne vada da quel paese anzi proprio a fanculo nel mio caso quindi vado a sederlo si accomodi vicino tra l'altro voglio dire allora è arrivato il momento del regalo di Natale anticipato anticipato guarda apri arribile ma solo lei e poi dopo non ti preoccupare allora questo è Il cielo su via Padova farlo vedere bellissimo romanzo di dare a Colombo sulla periferia milanese in realtà su tutte le periferie delle grandi città che sono represe con i processi di integrazione ancora come sappiamo faticosi io volevo regolartelo più sotto le feste però avendo saputo che lo presenti venerdì prossimo alla Galleria Sordi di Roma ho detto glielo do prima così si portava lei è una secchiona vedere sempre questi dettagli è un uomo malizioso Alessandro ti vedremo cioè ti ascolteremo venerdì prossimo vai a studiare voi invece restate lì perché ci sta per raggiungere Levante e la parola eredità di Serena Bandini con una grande sorpresa in altre parole stiamo tornando in altre parole sono felice di fare entrare un'amica delle parole che è anche amica mia Levante eccola qua di là benvenuta Levante con noi con la parola ritagli buonasera e dopo capirete perché adesso abbiamo invece la parola eredità vi conosci tu una bella parola una bellissima parola lei sarà perché lei sarà ospite al festival tutto giro tutto torna al festival dell'eredità delle donne lo ricordiamo dal 22 al 24 novembre alla manifattura tabacchi di Firenze il titolo di quest'anno la tua parola è eredità però prima ci devi spiegare il titolo perché il titolo è future future perché penso al ministro fitto che ha fatto la lettura in inglese e allora qui si deve leggere future o future in tutti e due modi questo è il bello della libertà perché future sono le donne future e quindi non ci interessa di capire quali prospettive quali idee il momento così drammatico e lì ti ho preparato una bella sorpresa sulle donne del futuro vedrai e poi anche perché no il futuro perché nel nostro festival non è che si parla le donne parlano delle donne le donne parlano di tutto di tutti i temi perché una serie di panel molto maschili noi sette anni fa decidemmo che era il momento è arrivato il momento di sentire le prospettive i punti di vista di donne straordinarie infatti noi vengono dalle artiste alle scienziate dalle cantanti alle artiste visive perché hanno dei punti di vista interessanti delle prospettive nuove in un momento come questo dove il futuro ci spaventa ogni giorno sentiamo poco prima stavi dando delle notizie drammatiche e invece non dobbiamo spaventarci no come diceva Maria Curie che è il novantesimo dalla sua dice il futuro non ci deve spaventarle l'importante è cercare di capirle quindi è quello che vogliamo fare quest'anno con dei panel anche sulla maternità sulle famiglie italiane sulla denatalità vogliamo capire tu parlerai proprio di questo del tema maternità e natalità ci anticipi c'è una serata mamma mia dove insieme come sempre negli happening che piacciono a me tra comicità e scienziate come Linda Laura Sabatini che viene anche da te che è una statistica una delle più importanti d'Italia cerchiamo di capire perché si chiacchiera tanto su questo fatto che sembra che le mamme italiane sono cattive che non vogliono fare figli perché anche questa nel 2023 abbiamo 13.000 bambini in meno ci sono più ottantenni che bambini da 0 a 10 anni però in realtà si capisce perché uno ce l'hai lì eccolo l'ho cresciuto anch'io l'ho svezzato perché comunque non trovano lavoro escono di casa dalla famiglia tardi perché la casa costa tantissimo non ci sono i servizi sociali ma c'è anche un pregiudizio è lì questa settimana non so se possiamo vedere lo strappo della notizia un'avvocata di Genova al nono mese di gravidanza doveva andare a Venezia perché aveva un'udienza e la giudice di Venezia ha detto no visto che sei incinta non dovevi accettare l'incarico e ha respinto la richiesta ha fatto un'udienza però mancano proprio gli asili nido hai capito in questo paese nel senso che pensa che ci sono 28 posti su 100 bambini e di questi 28 posti la maggior parte sono più della insomma della metà sono asili privati ora noi dovremmo arrivare nel 2035 a 45 posti per 100 bambini non so di questo passo non mi sembra che ci sono vari problemi a PNR sugli asili eccetera quindi sai non ci sono gli aiuti le strutture cioè l'unico welfare sono i nonni per dire e quindi ritorniamo una catena una catena qui non è una cattiveria perché non fare figli ma è una difficoltà vera si fanno sempre più tardi quindi anche la fertilità naturalmente decresce e le famiglie italiane anche sono interessanti perché mi sono voluta andare ad entrare nei numeri perché questa famiglia di cui si parla di cui spesso poi ci sono per una famiglia di due genitori madre padre e tre figli sai quante sono quelle di cinque componenti il 4% allora dici ma scusami poi dici quelle invece che hanno sono il 14% ma allora come sono le famiglie italiane il 40% delle famiglie italiane sono famiglie non tradizionali allora qui non è questione di essere pro contro di destra o di sinistra qui è questione di guardare la realtà e capire come si evolve il paese come si sta evolvendo e abbracciare aiutare le persone a vivere meglio non facendogli cambiare a tutti i forzi le loro scelte no ma cercando di abbracciare il paese qual è che chi sta al governo proprio nelle loro vite personali fanno parte di queste famiglie e qui dovrebbero vederlo in casa la vita come la vita reale non quella immaginaria quindi penso sia importante capire perché è venuto incontro ai desideri delle persone le persone devono vivere come vogliono amare come vogliono però io penso che chi governa deve abbracciare tutti non solo quelli che li hanno votati e capire come ha formato un paese e abbracciarla aiutarla a vivere meglio perché noi vogliamo vivere meglio aiutare come dici sempre tu non ci deve essere il ministero della famiglia ma delle famiglie perché le famiglie sono tante dovremmo cercare di tutelarle tutte io ti ho preparato una sorpresa però per la parola eredità ti ho portato una storia di donne che mi viene già i brividi a raccontarla perché sono cinque anzi sei perché incarna proprio il senso della tua parola e se mi permetti anche del tuo festival allora la prima donna si chiama Anna Anna Bonino e se ne è andata a 81 anni lo scorso anno è piemontese Claudia e veniva da una famiglia la chiamo Claudia perché il suo vero nome è Claudia tra l'altro un inciso prima di cominciare la storia io ti posso chiamare Claudia vogliamo dire perché ti chiami Levante siccome sono torino e si fanno Ciccocco Ciccocco ci conosciamo da Volcano Levante è un soprannome ma arriva in realtà da un gioco rispetto a un personaggio di un film di Pieraccioni lei si chiama così che era un maschio era lui Levante libero e selvaggio era lui era lui quindi deve il suo nome a Pieraccioni magari non tutti lo sanno allora torniamo ad Anna Bonino questa parentesi mi veniva così momento Torino momento Torino la prima protagonista si chiama Anna Bonino di Montese se ne è andata lo scorso anno a maggio aveva 81 anni e veniva da una famiglia umile ed era riuscita a studiare grazie a una borsa di studio cosa ha fatto? questa donna ha fatto carriera ha messo da parte un po' di soldi ma non ha dimenticato che tutto era cominciato con quella borsa di studio e nel testamento ha lasciato il collegio in Auli di Torino dove anche lei era stata ha lasciato un milione di euro per consentire per costituire cinque borse di studio destinate a ragazze studentesse di basso reddito e alto profitto scolastico sono quelle storie che... ma è perfetto cinque ragazze Serena che ora grazie a lei potranno intraprendere la loro strada e sono qui stasera con noi tutte cinque ramba Sofia Maria Domenica Beatrice Antonella e in collegamento Elsa le ereditiere eccole qua caro ereditiere ma vi conoscevate prima di scoprire questo diciamo questa comune l'ascito di questa signora noi due si perché eravamo già in collegio tu sei? Maria Domenica Maria Domenica uno per uno faccio l'appello nome studi che fate e sogno cominciamo da te io sono Maria Domenica studio filologia letteratura e storia dell'antichità all'università di Torino e vorrei fare la papirologa e la ricercatrice universitaria la papirologa dopo ci spiegherai perché Elsa collegata da non so dove sì Elsa studio ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino e da grande vorrei lavorare nel mondo della ricerca nello spazio e magari intraprendere anche una carriera universitaria come docente o docente o astronauta va bene poi Beatrice io sono Beatrice studio medicina all'università di Torino e appunto da grande finita l'università mi piacerebbe continuare quindi rimanere in ospedale devo ancora scegliere poi bene cosa però medico io sono Sofia ho 19 anni studio lettere all'università di Torino vorrei il mio sogno è quello di fare la scrittrice di fare la scrittrice auguri di tutti i progetti che ho visto finora è più fantascientifico è il tuo ma ti faccio tanti auguri tu io sono Antonella ho 19 anni studio matematica per l'ingegneria al Politecnico di Torino e il mio sogno è quello di intraprendere la ricerca in ambito della matematica applicata quindi fare la matematica pura mamma mia posso dire che questo rispetto alla scrittrice è ancora più complicato però è più facile però c'è più diciamo però il futuro ci sarà tempo nel mondo di Elon Musk gli scrittori faranno vita difficile allora Maria Domenica tu vuoi fare la papirologa tu da dove arrivi quella è la tua storia allora io sono cresciuta a Pagete al centro della terra dei fuochi che è una terra sfortunata martoriata e assassina che purtroppo ha ammazzato anche i miei genitori che sono morti a distanza di otto anni l'uno dall'altro a causa di due tumori e queste cose sono successe lungo il percorso della mia formazione mio padre è morto che io ero in terza media e mia mamma durante il secondo anno della triennale ma questo per fortuna non mi ha limitato ma è stata una spinta in più per credere ancora di più nelle cose in cui credo e le cose che faccio questo non mi ha limitato perché mi sono guardata intorno il mondo che avevo intorno non mi piaceva era appena passata la pandemia ma chi vive in terra dei fuochi sa che respira un'area pericolosa e quindi mi sono detta ma io dove posso continuare il mio sogno e così ho scelto l'Università degli Studi di Torino perché ha dei programmi rivoluzionari ma soprattutto perché in Piemonte c'è una politica di tutela molto forte per gli studenti orfani e quindi sono capitata in collegio e l'Università di Torino mi ha dato la possibilità di studiare letteralmente da vicino ai papiri perché io vado a vederli al Museo Egizio al Museo Egizio uno straordinario museo che non avevi un orgoglio di solito dell'Italia ma perché vuoi fare proprio la papirologa? allora su questo ho una risposta semplice quella semplice rimanda alle parole di Vecchioni che tra l'altro è anche il mio cantante preferito Vecchioni dentro la canzone Euridice dice che gli uomini sono segni dimenticati e lacrime nella pioggia e i papiri soprattutto quelli documentari parlano di questi segni dimenticati e di queste lacrime nella pioggia alla fine il papirologo non è soltanto uno storico un decifratore di documenti ma in qualche modo è anche un giornalista dell'antichità perché parla dell'antichità con i temi del presente e viceversa noi studiamo petizioni petizioni di qualsiasi genere dichiarazioni di sciopero di lavoratori ma anche lettere private quindi conoscere gli antichi è bello perché non li rende più delle statue ai nostri occhi ma persone come noi delle persone vere questa è una spiegazione semplice poi ci direi quella più complessa pensaci Elsa Elsa allora tu invece raccontaci perché ho letto che tu hai una famiglia che quando hai detto viva ho preso la borsa di studio la prima risposta è stata e adesso però come farai a conciliare il lavoro con la famiglia che è una domanda che però i maschi non le fanno però se viene i maschi non le fanno queste domande com'è? sono piccole domande ingenue che purtroppo mi fanno anche un po' pensare perché mi affligge un po' pensare che non sia l'unica a cui viene posta una domanda del genere e mi fa pensare anche al fatto che perché questa domanda viene fatta soltanto a me perché ci sono ragazzi che hanno diciamo le stesse ambizioni per il proprio futuro e hanno tanta determinazione in seguire i propri sogni e anche per loro diciamo avere creare una famiglia rappresenta un impegno è un impegno per entrambi i sessi ed è proprio per questo che non capisco per cui appunto viene continua ad essere fatta soltanto alle donne un po' mi fa pensare che c'è ancora un po' di strada da fare su questo tu hai scelto tu hai scelto un settore diciamo storicamente molto maschile no? ma è vera questa cosa che si dice sempre che le donne devono sempre dimostrare qualcosa in più rispetto ai maschi perché noi qui ne abbiamo un esemplare in studio se è vero nel mondo purtroppo non dimostriamo niente sai come si chiama la sindrome di Ginger Rogers che deve fare tutto quello che fa Fred Dastair ma sui tacchi e all'indietro è vero bella Elsa è così ha ragione Serena Randini purtroppo purtroppo sì allora non bisogna necare che sono stati fatti enormi passi da questo punto di vista però in qualche modo c'è ancora in maniera sottile questo pregiudizio ovviamente è dovuto più a un retaggio culturale però non nascondo che quando mi sono trovata davanti alla scelta della mia università ho avuto per un istante il timore un po' la paura forse di non essere all'altezza di andare in un posto che forse non era il mio posto nel mondo e è proprio lì che mi sono accorta di quanto in realtà fosse insensato questo pregiudizio perché non c'è nessuna tesi che scientificamente dica questa cosa è normale che se nel mondo STEM cioè nel mondo comunque della matematica della fisica ingegneristico ci siano state più voci maschili è dovuto al fatto che non tutte le donne del passato hanno avuto la mia fortuna la fortuna delle mie coetanee oggi e sicuramente è per quello però non capisco perché ci dobbiamo sentire ancora in dovere di dimostrare qualcosa in quanto donne è un preconcetto che mi fa rabbia però se vogliamo vedere il lato positivo probabilmente parte della mia determinazione è dovuto proprio a questo a questa cosa Serena immagina che siano un panel del festival sì è proprio sguazzo volevo a Elsa consigliare un libro di Amalia Ercoli Finzi e Alvina Finzi la figlia che è stata la prima donna a laurearsi in ingegneria aerospaziale che neanche so dirlo nel 1962 e si chiamano le ragazze della luna e sono tutte scienziate dello spazio giovani che ce l'hanno fatta quindi è un libro che secondo me può interessarle parecchio e poi lei diceva Amalia Ercoli Finzi che non è vero quello che dicono questi pregiudizi sai professori dice che le donne mancano le famose per le materie scientifiche specialmente per la carriera in genere le 3T ovvero gli manca il temperamento ma quando mai il talento ma di cosa parliamo e il tempo ecco il tempo forse il tempo Antonella tu che sei appunto anche tu nel settore della matematica hai queste 3T di cui dici Sede io sinceramente appunto anche io ho avuto modo di confrontarmi anche con i miei colleghi diciamo aspiranti ingegneri e sinceramente non credo di venire meno a nessuna di queste 3T e anche per quanto riguarda il tempo io credo che se uno vuole in qualche modo lo trova sempre il tempo per dedicarsi a ciò che ama e a ciò che lo appassiona di più esattamente quant'etì ha lei Saverio? io niente io mi sono fermata alla D senti Cauda che effetto ti fanno queste ragazze? mi commuove molto sentirle parlare e sono tutte delle grandissime donne le vedo già non so devono finire gli studi ma in realtà mi sembrano mi sembra per il loro temperamento e per la loro determinazione mi sembra che in realtà abbiano raggiunto il loro obiettivo sono già arrivate anche se la strada sembra vedi questa borsa di studio è geniale questa donna è geniale ecco ragazze oltre a grazie ovviamente che sarebbe la prima cosa se poteste dire una cosa ad Anna Bonino cosa vorreste dirle? non so chi vuole rispondere di voi allora personalmente appunto la prima cosa che ci viene spontanea a dire è grazie sincero dal cuore ma non solo perché grazie alla sua borsa di studio adesso io così come anche le altre ragazze abbiamo la possibilità di studiare proprio a Torino ma anche perché è proprio grazie a lei a donne come lei che non si sono arrese che sono andate controcorrente in un'epoca in cui le donne non avevano la possibilità di esprimersi che abbiamo noi oggi bene loro nonostante tutto hanno avuto la forza di andare controcorrente di emanciparsi e fare della cultura la loro forza per andare avanti e sostanzialmente permetterci di essere qui a parlare oggi grazie ragazze senti volevo salutare anche quelli che hanno parlato di meno forse siete le più timide ma non certamente le meno bravi cioè io vi dico mi avete venuto i brividi perché parliamo sono due ore che parliamo di tanti problemi poi vedo le vostre facce e un po' di speranza c'erano ancora risolveteli voi questo vi ha detto tocca a voi risolverli ma mi sembra che ne abbiano cosa vedete ne hanno la forza che meraviglia vabbè che bella hanno tutte le T anche le Z S tutte le lettere vocali sentite adesso è il momento di aprire un'altra pagina di far entrare altri due paroglieri con la parola benito sta entrando Giordano Bruno Guerri eccolo insomma è da che parte arriva e con la parola stretta di mano il nostro il vostro coetaneo Jacopo Veneziani buonasera quasi coetaneo quasi coetaneo ciao Jacopo buonasera a tutti ora caro Giordano Bruno sono felice che tu sei arrivato in tempo per goderti la rubrica di Jacopo con quale parola questa sera Massimo ti porto la parola stretta di mano che poi in realtà sarebbero tre colpito da queste immagini della settimana vediamo in piedi sulla destra la madre di Giulia Tramontano la ricorderete rimasta vittima di femminicidio mentre era al settimo mese di gravidanza che stringe la mano appunto a carezza la PM che ha chiesto l'ergastolo per l'assassino ex compagno della vittima Alessandro Impagnatiello e colpito da questa stretta di mano così solidale così complice mi è ritornata in mente forse una delle più simboliche della storia dell'arte quella delle visitazioni cioè quando Maria incinta di Gesù va a trovare sua cugina Elisabetta incinta di Giovanni Battista il primo esempio che vi mostro è questo di Raffaello guardate che splendore abbiamo anche la firma del pittore vedete in basso a sinistra sulla pietra lì in primo piano vediamo le lettere dorate Raffaele Urbinas F dove F sta per Fecit quindi Fece realizzò e poco più in là al centro in corrispondenza dell'erba altre lettere Marinus Branconius FF dove FF sta per Fieri Fecit quindi Fece fare è il committente lo sponsor quello che ha pagato e che anche ha dedicato questo è un dettaglio curioso la tela è una dedica di questo Branconio alla nipote che si chiamava proprio Elisabetta che era incinta e che chiamò suo figlio Giovanni Battista anche lei come regalino gli ha dato un quadro di Raffaello mica male non aveva dato a spese era la nuora le voleva bene ma questa stretta di mano tra le donne in realtà la ritroviamo in molte altre visitazioni come ad esempio questa dipinta in Germania nel Quattrocento con questi angioletti che sembrano un po' dei pipistrelli o quest'altra del Cinquecento invece con i colori molto più tenui sfumati ancora in una tela del Seicento vedete cambiano gli abiti cambiano le acconciature i colori ma la stretta di mano resta perché era il modo più naturale confidenziale per salutarsi dimostrarsi affetto anche se in realtà la stretta di mano come forma di saluto è stata introdotta relativamente tardi dopo la fine dell'impero romano perché prima le varie classi sociali preferivano mantenere le distanze non toccarsi quindi si salutavano facendo l'inchino sollevando il cappello inginocchiandosi che poi tra l'altro la stretta di mano non è nemmeno neanche solo una forma di saluto ha moltissimi altri significati pensate ho trovato Massimo quella che viene considerata la prima stretta di mano della storia dell'arte questo basso rilievo che risale al nono secolo avanti Cristo quindi quasi 3000 anni fa in cui sono raffigurati due re ora secondo voi questi due signori col bastone e la barba cosa staranno mai facendo? Qualche ipotesi? Una trattativa commerciale? Quasi in effetti siamo in zona trattative la pace la pace anche altra opzione almeno Bruno Ottimista esatto un idealista in realtà stanno siglando un accordo la fusione dei loro regni questi sono un re assiro e uno babilonese quindi in questo caso la stretta di mano equivale a una firma a siglare un accordo però sempre guardando questo basso rilievo se vi chiedessi la prima funzione della stretta di mano che vi viene in mente anche pensando lo suggeriva un po' Giordano ai rituali della messa cosa mi direste? Cioè ci si stringe la mano per fare cosa? Per scambiarsi un segno di pace si dice anche a messa ecco bene questa è una pratica che risale in realtà all'antica Grecia si chiamava dexiosis letteralmente stringersi la mano destra perché abitualmente la mano destra è quella con cui si impugnano le armi quindi se uno l'aveva libera voleva dire che non aveva cattive intenzioni che veniva in pace appunto poi in realtà se uno era mancino ti fregava comunque ma questa è una un'altra storia l'hanno scoperto dopo esatto l'hanno scoperto dopo e questo rituale di pace dell'antica Grecia è andato avanti per secoli lo ritroviamo ad esempio anche in questo banchetto per la pace di Münster dipinto dal fiammingo Bartolomeus Van der Helst è un'opera che celebra la fine della guerra dei trent'anni una guerra che nel seicento stravolse molti paesi europei e qui in particolare vediamo le guardie olandesi che festeggiano il signore lì in primo piano a destra vestito in total black completamente di nero è il capitano delle guardie olandesi con in mano questo calice d'argento a forma di corno con cui beve e anche lui cosa sta facendo? sta stringendo la mano al suo tenente per congratularsi del risultato ottenuto tra l'altro se ci fate caso in questo dipinto ci sono moltissimi dettagli ma vedete che c'è anche un foglio inserito nel tamburo lì al centro in primo piano messo lì un po' a caso sembra ma in realtà è un dettaglio molto importante perché su quel foglio è riportata una poesia che celebra appunto la pace pensavo fosse il conto del banchetto potrebbe anche essere in effetti perché in effetti dall'immagine non si capisce bene però andando facevano fatture ma in realtà andando al Rijksmuseum di Amsterdam si vede che è proprio una poesia sulla pace ma poteva anche essere una opzione ma comunque a stringersi la mano sono anche Garibaldi e Vittorio Emanuele vicino a Teano dando avvio all'unità d'Italia come vediamo in questo monumento a Fiesole quella dietro sulle zampe posteriori del cavallo è ruggine potrebbe anche sembrare preciso per i malpensanti oppure si stringe la mano a un bambino affinché non scappi i greci rappresentavano la stretta di mano sulle steli funerarie perché era un modo per dire addio ai defunti quindi ci sono veramente moltissime declinazioni della stretta di mano ve ne vengono in mente altre? altre situazioni in cui ci si stringe la mano? perché si toglie il guanto prima di dare la mano? perché? come lanciare il guanto? no perché qualche malintenzionato antico metteva del veleno dei pungiglioni col veleno e quindi poteva è come nell'antica Roma dove ci si stringeva la mano stringendo anche l'avambraccio per verificare che non ci fossero armi nascoste nelle maniche c'è sempre della diffidenza c'è sempre della diffidenza però quanto si è mancato durante il covid? la stretta di mano e quanto ci abbiamo messo per riprendere confidenza che ancora adesso quando ti stringono la mano c'è quel momento ci siamo tutti toccati a proposito di riprendere confidenza concluderei così Massimo gioiamo tutti insieme e scambiamoci un segno di pace fatelo vado dalla signora Maria pace pace Don Jacopo se vuoi accomodarsi Jacopo la seda Antonio Pontificio lo ascolterai per ora bravissimo veramente Jacopo io invece scambio il mio segno di pace con Claudio ma anche con Giordano Bruno Guerri perché con la parola Benito mi sa che avremo qualcosa da discutere subito e cominciamo anche con una parola Guerri no la parola Guerri in effetti posso chiamarti GBG Giordano Bruno Guerri allora senti io non so se possiamo già cominciare a mostrare la copertina hai scritto un libro importante diciamolo su Mussolini però anche tu hai scritto un libro su Mussolini a parte che tu essendo un dannunziano il tuo dannunzio sarà un po' offeso per questa cosa perché ho scritto prima su di lui in questa collana quindi ma perché si scrive così tanto su Mussolini perché non si è ancora risolto il problema non il problema Mussolini anche secondo me ma il problema del fascismo è stato non studiato per trent'anni dopo la guerra perché era un totem non solo da battere poi è arrivato le felice si è cominciato a discuterne ma ancora oggi si parla della necessità di dichiararsi antifascisti io sono antifascista non ho nessun problema a dichiararlo sono un libertario figurati se non so sono anti tante cose però dopo parleremo della differenza fra fascismo musolinismo resta lì perché tra un attimo torneremo e avremo ancora tantissime altre sorprese avremo i ritagli di Levante in altre parole stiamo tornando con Giordano Bruno Guerri con tutti noi in altre parole siamo tornati stavamo discutendo se Levante con il nuovo taglio di capelli corti potrebbe potrebbe essere una modella di Picasso eh sì ha un volto molto parigi inizio novecento te l'aveva detto qualcuno che hai un volto molto parigi inizio novecento no palagonia millenovecentottantasette hai capito ti è beccati questo allora a proposito di novecento qui abbiamo il libro l'agile volume il giornale Bruno tra l'altro devo dire che oltre che essere scritto molto bene è un libro con delle immagini una scelta iconografica molte foto proprio io non le avevo mai viste davvero notevole lo riesco a tenere due cose di un libro normale come testo però molto ricco molto ben spaziato però cominciamo dal titolo qui già è una scelta tutti i titoli dei libri su Mussolini Mussolini M tu invece hai scelto Benito che dà già un'idea di confidenza Benito perché gli italiani dell'epoca non lo chiamavano in casa fra amici né Mussolini né il Duce lo chiamavano Benito come uno in famiglia anche quelli che lo detestavano per loro era Benito e siccome questo libro parla del rapporto fra Mussolini e gli italiani per cercare di capirlo e di spiegarlo Benito mi sembrava e il sottotitolo è storia di un italiano ecco storia di un italiano tu vuoi dire che lui è l'arci italiano proprio è il simbolo dell'italianità sì aveva per certi versi tutti i vizi e molte delle virtù degli italiani al massimo grado e il sottotitolo si lega alla foto perché ho voluto dire che Mussolini non era come persona solo quello a Palazzo Venezia meglio che non mi faccia vedere in queste pose perché ha mal di schiena viene ah no pensavo perché io quando so il mal di schiena e la foto si lega appunto alla storia di un italiano lì Mussolini direttore dell'Avanti giovanissimo a 29 anni quindi è ritratto anche di un individuo di una persona che serve a capire cosa è successo dopo durante il fascismo il fascino enorme che esicitava su molti italiani e che non era ricambiato perché nell'ultima intervista della scelta da Mussolini prima di morire mi sembra la radio svizzera gli fessero la famosa domanda ma lei per vent'anni è stato dittatore com'è governare gli italiani è difficile lui deve questa risposta che ancora oggi governare gli italiani non è difficile è inutile è che detto da un dittatore ti dà l'idea proprio che siamo un popolo anarchico beh disse anche un'altra cosa nel 43 disse che gli italiani non posso dire come lo puoi dire si autocensurano no non mi autocensurano ti verrà in mente dopo senti le ultime pagine del libro e qui insomma voglio coinvolgere anche Serena a tutti sono dedicate all'eredità politica di Mussolini allora dici chi è l'erede di Mussolini oggi nel mondo non ti dico necessariamente nel mondo in Italia e nel mondo i dittatori di destra perché Mussolini era un dittatore di destra non era un punto del libro centrale questo il fascismo era una una costruzione filosofica ideale quella di gentile l'uomo nello stato è tutto fuori dello stato non è niente ora ti sembra che gli italiani di allora come quelli di oggi si riconoscono nello stato se no non sono niente no poi l'italiano guerriero noi non siamo un popolo militaresco ne è portato alla guerra per fortuna e allora lui ci ha portato purtroppo alla guerra vedendo come è andata facendo morire ci ha portato sciaguratamente alla guerra e si dice comunemente che se non avesse fatto la guerra sarebbe durato io non credo sarebbe caduto ugualmente perché si era ormai inimicato buona parte del popolo italiano soprattutto la borghesia dopo la guerra d'Etiopia quando tutti speravano nella pace nell'impero il posto al sole lui leggi razziali sostituzione del voi dell'econis voi il passo romano e tutte queste cose obbligo di alzare la manina a proposito le strette di mano ma hai risposto sull'erede c'è un'erede oggi di Mussolini no di quello che tu chiami il mussolinismo che non è il fascismo ma è l'interpretazione di appunto il dittatore di destra che dice che cuce lo stato intorno a sé qui comando io e non comanda nessuno io credo che sia forse in qualche stato africano forse non mi sembra che ci sia questa figura e invece appunto si continua a parlare di fascismo a proposito di qualsiasi governo di destra e che crea un equivoco che danneggia prima di tutto l'antifascismo perché si crea un feticcio diciamo che alcuni esponenti del governo ogni tanto non aiutano questa cosa che dici tu oggi ne hai fatto la puntata parlando di un sottosegretario che praticamente dice che è un'intima gioia per lui vedere la gente soffrire i carceri insomma non è una cosa esattamente quello che va oltre il vecino è veramente una cannagliata però insomma noi abbiamo vissuto quello in Italia quindi associamo quel tipo di risposte a quell'esperienza storica mi piaceva sapere che impressione siccome lui è uno studioso che impressione gli ha fatto sentire i cori a Bologna Camice Nere me ne frego Manganello non so quale delle canzoni sono quelli di Casa Pound che a mio parere non sanno neanche appunto cos'era il fascismo spesso lo conoscono vagamente si ha il culto dell'uomo forte e questo è uno dei motivi della nascita del fascismo l'uomo popolare più popolare del risorgimento è stato Garibaldi e poi Crispi il primo governo autoritario che abbiamo avuto era Crispi Francesco Crispi e poi tutti gli uomini forti che abbiamo avuto del seguito la coppia Togliatti e De Gasperi si dividevano il ruolo dell'uomo forte a metà per uno e poi Craxi e poi Berlusconi e poi Draghi quello che risolve i problemi di tutti però tu nel libro ti scrivi una cosa e dici noi tendiamo noi italiani a delegare tutto all'uomo forte però è anche un modo per scaricarci le nostre responsabilità perché così come un giorno lo esaltiamo il giorno dopo possiamo buttarlo giù e dire noi non c'entriamo niente che è quello che è successo come ben sappiamo che è quello che è successo appunto quando è caduto il fascismo nel giro di 24 ore non c'era più un fascista in Italia a trovarlo a peso d'oro buttavano addirittura le camicie nere dentro i tombini le cimici le cimici mi è venuta in mente quella frase anzi non la volevo dire ma Solini disse nel 43 gli italiani del 1914 erano migliori di quello di quelli di oggi non è un bel risultato per il regime ma è così quindi era un segno di fallimento non era riuscito era un riconoscimento di un fallimento perché comunque lui mantiene ancora cioè ancora oggi ne stiamo discutendo parlando io mi chiedo sempre un po' come in Francia succede per una figura divisiva pensate gli anglosassoni quanto odiano ancora oggi Napoleone però in Francia Napoleone è ricordato ancora oggi e noi abbiamo Mussolini perché che fascino esercita ancora quest'uomo beh perché appunto il culto dell'uomo forte che è come il campione di pugilato e si ama quello che ha la mascella si ama Rocchi che in privato è dolce lui accarezzava i bambini anche lui andava a falciare il grano eccetera e però aveva questo spirito di forza di superuomo nei quali gli italiani si identificavano e non solo gli italiani anche all'estero era mattissimo come sai si era una figura serena a te che effetto fa ancora insomma dobbiamo io vedo serena che sei così un po' no no ma come ti ho fatto pure la domanda bisogna fare i conti ma io anzi io trovo è così che ce ne liberiamo no no ma io sono molto d'accordo io penso che è giusto parlarne approfondire anzi anche le cose che ha fatto le leggi per esempio per disincentivare le donne dalla carriera dal lavoro sperando che questo aumentasse la natalità e invece studiando la storia lo sa bene questo non è successo mentre invece nei paesi dove sì le donne lavorano e hanno gli aiuti fanno molti più figli quindi studiando quello è importante invece sapere quello che ha fatto magari per non rifarlo mai più diciamo però sapere chi siamo chi eravamo è quello che siamo oggi perché è inutile cancellare anzi è molto sbagliato perché poi si ripete a pappagallo magari dei cori senza sapere cosa c'è dietro beh un popolo che non conosce la sua storia a parte la sofferenza di tante persone non è in grado di organizzare il proprio presente e di progettare il futuro perché la storia siamo noi come dice l'amico come dice De Gregori meglio conoscere le nostre radici proprio anche per cambiare il futuro e conoscere anche appunto i personaggi che ci spaventano magari perché vedono queste nostalgie però anche un po' così senza costrutto storico però appunto come quelli di Bologna che ragazzi dicevamo però resta il fatto che le democrazie non riescono a affascinare i personaggi della democrazia tranne rari casi pensiamo a Enrico Berlinguer ma sono rari i casi di personaggi all'interno della democrazia che mantengono è più complessa un aspetto epico la democrazia la democrazia è di per sé poco affascinante perché è piatta è serena però sei d'accordo con Cerci che rimane il peggiore di tutti i sistemi escluso tutti gli altri quello che abbiamo trovato finora nella storia è la migliore cosa che ci sia comunque tra Mussolini e D'Annunzio tu da che parte stai? D'Annunzio mille volte D'Annunzio puoi mettere la pioggia nel pineto D'Annunzio era un genio D'Annunzio era un poeta un guerriero un conquistatore di città senza sparare un colpo non era sanguinare ha inventato un sacco di cose che ancora influenzano la nostra vita era un nostro contemporaneo lui invece come diceva Montanelli era un grandissimo caporedattore Mussolini cioè un grande titolista un grande giornalista D'Annunzio o Mussolini? Montanelli diceva di Mussolini era un grande titolista occhio a quelli del manifesto allora ragazzi era un grande titolista era un grande giornalista e poi la vita invece l'ha portato da un'altra parte e direi sì ha portato purtroppo anche noi da un'altra parte comunque insomma è un libro importante è un libro io sono rimasto molto colpito dal titolo perché per una ragione che hai detto tu perché dà l'idea che ci sono dei personaggi che mi fanno un po' paura ecco quando un politico viene chiamato per nome mi fa un po' paura quindi a me quando non mi piace io sono Giorgia cioè Silvio cioè chiamarli per nome da un'idea che non sono più dei politici il politico deve stare un po' distante da me e devo poterlo è un libro importante perdonami se me lo dico da solo perché io non l'avevo mai voluto scrivere non lo chiedono da un vero bambino era molto precoce poi c'è stato De Felice non c'era più bisogno vi ricordate le polemiche su De Felice che spiegò il consenso risidendo al fascismo però De Felice sono otto volumi giganteschi e poi non è del tutto passata l'idea il tuo non è che scherza però diciamo però è uno però è uno è coffee table il costo a etto di quel libro è bassissimo è nero molto più bassi è nero bollente e vediamo infatti ai ritagli e ora cara Claudia c'è una notizia della settimana che ha toccato le corde di tanti lettori ha fatto molto discutere alla festa di compleanno di una bambina di 5 anni nonostante i tantissimi inviti fatti però nella chat dei genitori quindi non direttamente a ogni singolo genitore come si usava una volta non si è presentato nessuno molte discussioni alcuni hanno detto povera bambina altri fra cui mi hanno detto anche io hanno detto non esageriamo insomma è una cosa è un trauma che si può superare forse sarebbe meglio le feste organizzarle ancora in casa come si faceva una volta con pochi bambini invece di fare tutti vorrei fare sempre sempre fare queste cose però detto questo intanto la tema è capitata da bambina da mamma sei ancora troppo piccola però da bambina ti è mai successo da figlia di provare questo trauma? no 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 io ricordo grandi festie compleanno quindi non ho avuto questo tipo di si è cresciuta senza traumi mi prendevano in giro per i baffi per cui comunque i miei traumi ce li ho avevi baffi i baffetti certo la sicula io avevo il baffetto mi ricordo questo è un primo elementare mi avvicinai a Giuseppe che era il più bello della classe tantiamo occhi grandi vabbè poi Giuseppe aveva altri che si è pentito amaramente credo che si è pentito sta piangendo in un angolo da sotto e mi ricordo che mi avvicinai mi piaceva tantissimo ero piccola e lui mi disse Claudia Baffuta e quello è un trauma io poi l'ho scritto in un libro per poter giustificare non c'era non potendo la conoscevo ancora quindi sì anch'io i miei traumi però di altro genere per tranquillizzarti una volta funzionava lo dico ai più giovani funzionava così il bambino ti diceva Claudia Baffuta finiva lì adesso lo scrive sul telefonino e tutti lo leggono e ti distrugge e ti distrugge ma io l'ho scritto sul libro fai tu quindi ho scritto un romanzo su questa cosa abbiamo provato però a dare un lieto fine alla storia di questa bambina usando in maniera creativa i titoli tutti rigorosamente veri di altre notizie della settimana è venuto fuori questo collage si dice un collage si è un collage benedetti ragazzi dove eravate il caso fa il giro del mondo il presidente Mattarella le dona un bacio lì abbiamo messo insieme Mattarella Musk con Salvini con la Gruber la principessa Kate manda gli inviti al concerto Westminster il padre della bimba sono ancora incredulo e la madre siccome l'abbiamo ricostruito perché così è il libro di Levante che è particolare è proprio così perché lì mi è venuta vedendo questo libro artigianale è tutto fatto così allora tu hai ritagliato e ricomposto i titoli di più di 4.000 quotidiani sì ora va bene che sei amica mia però per quale ragione sei rimasta così legata ai giornali di carta ma io amo leggere il quotidiano però mai molti lo leggono sull'ipad sul telefonino però mi affatica mi affatica per passo Levante tiene in piedi il sistema delle edicole italiane voglio farne un applauso se c'è ancora questo tuo lavoro aperto e grazie a Levante però ragazzi effettivamente l'edicolante si stupiga mentre tu parli stiamo vedendo le immagini del tuo lavoro ma questi sono solo gli ultimi io ho veramente accumulato una quantità di giornali a casa mi hanno odiata perché poi quando questa azione perché all'inizio era un'azione quella di ritagliare il titolo la parola che mi affascinava ma perché mi affascinava perché in un contesto magari bellico di terrore e che racconta come è nata la cosa tutto è nato perché subito dopo la nascita di Alma è nata tua figlia 13 febbraio 2022 Alma nasce e 10 11 giorni dopo scoppia questo conflitto la fine della pace quindi Russia e Ucraina e niente per me diventa la grande paura appunto come potete vedere anche nello schermo diventa una grande paura tutto diventa una grande paura perché probabilmente è anche amplificato dalla maternità eccola e questi titoli però mi rimandavano qualcosa di poetico per cui trovavo dei contrasti tra le parole e silenziosamente ho iniziato a ritagliarli era una cosa che non stavo dicendo a nessuno lo facevo li accumulavo di solito lo fanno i serial killer questa cosa di pagliare la godia infatti a un certo punto è stato tipo ma a chi stai scrivendo le terminatorie era il caos era il caos era il caos all'inizio era un piano il piano colazione in cucina che avevo in vaso poi ho preso il laboratorio quindi un basement ero proprio un serial killer e in questo tavolo di vetro ho sparso tutti i miei titoli veramente tantissimi e ho cercato di dare ordine a questa cosa ma non è stato possibile quindi ma come funziona il processo creativo in quel caso il colpo d'occhio il colpo d'occhio è la parola accostata ad un'altra che probabilmente mai avresti avvicinato e poi da lì creare il senso Jacopo Veneziani questa è l'ultima poesia super dadaista è dadaista però i dadaisti lo facevano in maniera casuale qui in realtà c'è poi anche per attirare perché dicevano i titoli di giornale sono fatti per attirare l'attenzione e all'inizio del novecento quando la poesia era un filo snobbata dicevano forse se usiamo titoli di giornale per comporre testi poetici riusciremo ad attirare nuovamente l'attenzione non solo i testi poetici io ho ricevuto una lettera anonima questa notte non ero io c'era scritto guerra i bastardi ecco così l'ho appesa in ufficio perché c'è come un'opera d'arte opera d'arte no? questa è l'ultima del questa è l'ultima poesia del libro io cammeriera malinconica e io cammeriera malinconica sono veramente io perché quando nel 2013 uscì Alfonso credo il credo sia un titolo della gazzetta dello sport c'era scritto io cammeriera malinconica scallo le hit e c'era rimasta un po' male non so perché è vero facevo ancora la cammeriera in drogheria in piazza Vittorio lei ha iniziato io l'ho conosciuta a Torino però mi aveva un po' stranita quindi come rivalsa l'ultima poesia io cammeriera che è malinconica grinta e chitarra per non avere paura perché senza si può piangere ho inventato la strada per la mia stella e nessuno potrà tornare indietro folgorante superumana è così ma diventeranno le canzoni queste secondo te alcune sì secondo me alcune sì ci sono dei dei versi un po' più musicali che vorrei introdurre nel nuovo disco però è stato un atto veramente potente dal punto di vista creativo ti sviluppa una fantasia inimmaginabile perché proprio lo si faceva fare anche ai bambini in realtà però lo consiglio è veramente un esercizio rifatelo a casa rifatelo a casa forse con la punta arrotombata però mi raccomando se no vi fate male e poi ho per aumentare il livello di difficoltà per aumentare il livello di difficoltà ho deciso di dipingere olio su tela e questi sono i 13 quadri che sono inseriti e sono soggetti riferiti ad alcuni alcuni sono sempre affascinato dagli artisti che riescono a fare bene tante cose diverse io già ne faccio una sola male che è scrivere più o meno ma parte quello io quelli che riescono invece a esprimersi con tanti mezzi tu Giordano lo sai cantare? io assolutamente niente sono solo scrivere beh dirigere qualcosa poi per il resto ma io non so se lo faccio bene però lo faccio perché mi fa stare bene è questo è una terapia non è infatti quando mi dicono ma tante domande per questo libro sono state ma a che pubblico vuoi parlare con chi stai parlando come stessa cioè poi è lo stesso motivo per cui faccio musica è l'esigenza di creare qualcosa però poi lo dividi con noi e da martedì Rory Vine il 19 novembre è già su Amazon ma da martedì fisicamente potrete leggere Attacco Stellare e tutti un altro io apro perché poi è un libro anche questo è un gioco come i cingh lo apri nella pagina le risposte lo apri nella pagina che vuoi va bene ragazzi è arrivato il momento della buonanotte questa sera c'era una storia di cronaca che ha colpito tutti tutta la settimana ne abbiamo parlato e proviamo a raccontarla con la voce del fidanzato dalla protagonista lui si chiama Salvatore le frasi che sentirete sono tutte quelle che lui ha pronunciato in questi giorni e le abbiamo rimesse insieme in un unico testo Margaret lui si chiama Salvatore Margaret sto ancora cercando di rendermi conto di quello che è successo ma non so se ne sono capace i ricordi mi arrivano uno sopra l'altro come dei pezzetti di Shanghai fatti volare per aria da una tempesta la prima cosa a cui penso è il giorno in cui ti ho chiesto di sposarmi ero emozionato quasi come nove anni prima quando ci siamo messi insieme stavi ancora finendo le medie tue e io non mi facevo neanche la barba però sapevo già che eri tu io ti amo anche per i tuoi difetti come quella imperfezione del naso che ti mette tanto a disagio sei bellissima anche coi capelli lisci col viso da modella ma ha ragione tua madre quando dice che sei la sua principessa un po' vanitosa sei anche solare però estravagante divertente qui alla RSA di Lentini dove lavori in Sicilia sei la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene ti siedi alla reception annoti le richieste dei pazienti e poi li aiuti anche nelle cose che non toccherebbero a te la prima volta che mi hai detto che voler fare la rinoplastica io non ero molto convinto ma ho capito che per te quel naso era un tarlo che ti toglieva serenità e vederti serena per me è l'unica cosa che conta il medico l'hai trovato su TikTok per me facciamo tutto lì è uno studio di Roma e le recensioni che hai letto sono buone due chirurghi padre e figlio abbiamo appreso appuntamento per il 4 novembre quando siamo arrivati eri tranquilla scherzavi anche dicevi tra poco non mi riconoscerai più mentre io ti riconoscerei tra un miliardo di persone ma non te l'ho detto perché ho capito che operandoti al naso tu volevi soprattutto farti riconoscere da te stesso lo studio medico è strano ne aspettavo una clinica invece è un ex appartamento con le pareti bianche ho letto dove buono ricordo sul telefono credo ormai leggiamo tutto lì che si tratta di un intervento di routine una cosa facile comoda e allora perché sento delle grida arrivare dallo studio dove ti stanno facendo l'amestesia provo a entrare ma c'è una donna che mi spinge via io entro lo stesso istintivamente prendo in mano il cellulare e filmo la scena tu sei lì sdraiata per terra non capisco più niente continuo a filmare è il caos il tempo collassa un'ambulanza ti porta via io la inseguo fino all'ospedale e mentre ti aspetto fuori dalla stanza guardo ininterrottamente le nostre foto su Instagram ormai facciamo tutto lì ci baciamo sempre nelle foto l'ultima volta alla festa del tuo ventiduesimo compleanno sei vestita di giallo elegante magnetica indimenticabile dimmi che non te ne vai dimmi che non me lascerai solo dimmi che questo dottore qui all'ospedale sta mentendo siamo finiti in una trappola Margaret la magistratura ha aperto un'inchiesta sembra che quei chirurghi non avessero la licenza per operarti al naso e io adesso avrei voglia di urlare mentre altri preferiscono prendersela con te a vent'anni dicono non ci si opera al naso per ragioni estetiche non ci si sceglie e non si sceglie un medico su TikTok tutti bravi a giudicare una ragazza che nemmeno conoscevano ma lo scandalo in questa storia non sei tu lo scandalo sono quelli che permettono a chiunque di spacciarsi per specialista e di farsi pubblicità sui social inventandosi competenze che non hanno senza che nessuno nessuno in questo paese controlli mai niente la colpa non è dei social così come la colpa di un incendio non è delle fiamme ma di chi non sa impedire che vadano ovunque e bruciano tutto purtroppo anche te è intornato in altre parole più bello della serata ma è vero e io tra di voi ho paura e io tra di voi allora che succede lo sapete arriviamo alla parte conclusiva della trasmissione Massimo Gramellini mi umilia di fronte a milioni di telespettatori dandomi i compiti per la domenica a me piace ho scoperto che mi piace questo rapporto BDSM mi piace farmi male mentre mi umilia questa sera mi elettrifico quando Massimo Gramellini mi dà i compiti sono pronto ad applicarmi la batteria di un'auto c'è Aldo Cazzullo fuori alla guida di un sud al momento in cui gli dico parti lui parte e mi elettrifico quindi io le scarico i compiti per domani la mattina mi legge Benito di Giordano Bruno senza dichiarare guerra alla Francia per quanto si contenga nel pomeriggio mi legge invece e mi sfoglie e mi rispoglie i ritagli di Levante nella sua opera quotidiana e mi ritaglio anche un po' io così mi faccio un po' male e mi piace che uomo poi dopo un parco pranzo o un pranzo al parco veda lei mi studia il programma dell'eredità delle donne a memoria il festival di diretta della Senata Dandini che giorni si svolge? dal 22 dal 22 al 24 novembre dove? Firenze puoi girare la manopola se vuoi e poi e poi? e poi domani sera? alle 20 e 35 mi guarda la puntata tascabile di In Altre Parole con il professor D'Agredelsky e Marco Travaglio e voi fate dei sogni grazie a tutti ci vediamo domani sera siamo arrivati basta ciao ciao